eeeh fino adesso quindi mo si dovrebbe riprendere sono proprio un mattacchione eh si buonasera ho finito adesso di caricare i video meno male ho startato la live giusto giusto che minchione che sono mamma mia buonasera a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti a quelli belli e a quelli brutti mettiamo in time out questo sponsor allora bis channel benvenuto fra gli abbonati Matteo Carocci 1 euro Salvo Vecchio nuovo abbonato Rapicri 06 nuovo abbonato e Dark DS 2 euro bella ci sei un mito grazie mille buonasera ragazzi com'è grazie Luca Nappi grazie mi dice bella ci complimenti per il video di oggi grazie mille ma per me è stata un'ottima partita bella 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 bevira buonasera buonasera mod buonasera abbonati buonasera a tutti a questi abbonati a questi abbonati che oggi gli ho dato anche il video in anteprima è bella partita no no ma ci sto semplicemente che all'inizio parliamo solo un po' io e voi e poi arrivano gli altri mamma mia raga ho appena mangiato mamma mia ah oh no no ho aggiornato il titolo della live mannaggia a me eh oggi è giovedì ho aggiornato la il titolo me l'ho dimenticato Daniele a me fuori casa sta Zeus con le bombe la madonna no da me no me l'ho dimenticato di aggiornare il titolo tutto qua Fabio Lemme benvenuto fra gli abbonati zio oggi è giovedì che vi devo dire come sto sto un po' stanco poi per il resto tutto a posto l'ho visto il cambio di Dometo Down l'ho visto aspetta qua c'è una domanda carina di Gabri Arricale hai mai pensato di passare a Twitch per le live semplicemente per una questione economica sembra una cazzata per una questione economica e basta in realtà anche perché Twitch fa degli eventi un pochino un pochino fa eventi carini come il Twitch Summer il torno di Fortnite che YouTube non farà mai capirai God's Lex un euro perché calcolate che qui ho 850 sub se andassi su Twitch con 20.000 persone che mi seguono Twitch Prime non vi dico 10.000 abbonati calcolate 10.000 abbonati sono 30.000 euro al mese muo vediamo semplicemente per una questione economica mi sposterei un pochino di là che comarek due euro andeciccio sei migliore di stimo grazie mille poi io vi dico la verità non è che ve sto di cazzate esatto i Twitch Revolts faccia da nerd bella PUBG mi fa cagare H1Z1 è vecchio te fan non mi dire che domani è venerdì ragazzi lo sapete gioco alle 20.40 instant stories perché tu i soldi non li vuoi a te fanno schifo mica rubo niente a nessuno quanti di voi qua dentro hanno Twitch Prime e non hanno dato l'abbonamento a qualche streamer dove venissi a casa ruba le cose allora ok io voglio i soldi c'è qualche problema ma spero che anche voi abbiate l'ambizione di farne tanti nella vita almeno finché è possibile sempre nella legalità divertendovi eccetera 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 no? Alessandro Alessandro Ariemma 2 euro è poco ma ci ti volevo donare grazie mille mi saluti bella chi? Red Dead Redemption si che ci giocherò Salvatore assolutamente si quello del 2 per forza il tapirulan ce l'ho da qualche giorno Frank 19 80 2 euro stasera cerco gli sponsor e i dinatori no non ne ho idea Japan Aichi se non avessi avuto problemi legati all'obesità come ti chiedi se venessi su youtube non ne posso sapere in un'altra vita se rinasciamo nello stesso periodo e devo rifare questa vita però non do obeso chi lo sa non ne ho idea Gigi la dieta prosegue sabato so se sto dimagrendo ancora Xene grazie mille Filippo Uceppi rifarei serve privati non credo Sebastiano di Pasca 2 euro mi saluti ciccio bella bro con voi abbonati non lo so quando rigioco ragazzi vediamo oggi ho mangiato lenticchie con tre quarti di salsiccia più o meno lenticchie al sugo che ho fatto io buone è un po' di parmigiano max 2 euro Mirko rivale la doppietta è devastante bro non è che non è devastante è lo stile di gioco della doppietta che non mi piace e poi devi prendere headshot francesco 2 euro e 29 grazie mille leo 1 euro grazie ancora eh ragazzi io ce n'ho alle 7 e mezza per fare le live con voi che devi fare uno non ci pensa però fare tutte le sere le live da lunedì al venerdì ci vuole costanza sembra ma giochi e basta perché chi non è del mestiere dice così ho dovuto regolarizzare la mia vita in base a quello che faccio calcolate che adesso io mi metto a registrare dalle 2 di pomeriggio fino alle 5 5 e mezza poi verso le 6 faccio 45 minuti di tapirulan finisco per le 7 meno 10 roba del genere mi faccio la doccia nel mentre ho montato dei video e alle 7 e mezza mangio 7 e 40 e poi mi metto qua verso le 11 e mezza finisco vado a farmi altre mezz'ora 40 minuti di camminata e poi mi rilasso un pochino alle 2 vado a dormire e il cerchio della vita ricomincia alle 11 mi sveglio vedo i social insomma c'è un po' di robetta dietro non è che uno fa lo youtuber allora fa quel che cazzo che gli pare cioè almeno io io il nuovo ballo mi fa cacare yugimtm mi fa cacare la merda proprio brutta xterme 06 benvenuto fra gli abbonati ma forse l'hai rifatta marco gamer 1 euro thank you so much e lo so japan lo so lo so lo so tipo netflix ciccio netflix ciccio netflix febbole m 2 euro ti meriti tutto il bene del mondo grazie mille bro vabbè dai andiamo siamo 7000 eccoci e la madonna sol che bot chi fu preso eh non lo so se ti do una bot incredibile eh defra tu ero ma venerdì 13 e per il fuori puoi dire I am a jason venerdì 13 ragazzi ha avuto il boom tempo fa adesso non mi va di giocarci e non lo porto seriamente io ve lo dico preparate perché se fifa va in virale come al solito io ce faccio i video eh anche se non lo adoro stessa cosa per cod se va bene allora poi il batte royale di cod un altro discorso un'altra cosa avendo giornate così impegnate trovi spazio per gli amici in realtà no Gabriele Alfieri in realtà no anche perché io sono un tipo molto 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 difficile molto difficile defra yt 2 euro ma venerdì ah ok martino viz 2 euro e 29 buonasera sono sempre presente alle due live bella zio lo so lo so allora no questa sera ragazzi dobbiamo dobbiamo fare le missioni cioè vediamo dove dobbiamo andare per le missioni e le facciamo se no rimango senza skin leggendaria e poi piango allora nel mentre andiamo da sol che tanto lui allora carriera profilo non è vero mai sfide dobbiamo fare la settimana 1 ma no mi dice che settimana 1 l'ho fatta tutte che cazzo dice sto gioco allora metti a segno un tiro da 3 punti sui campi da basket devo fare questa è una rottura di coglioni imbarassante cerca tra un osi un'arca di pietra e di dinosauri ve la ricordate questa? si me la ricordo ok intanto ci concentriamo su queste due simone naso bella posizione un mio amico si chiama andrea bella 4 ore e 49 grazie mille allora sfida canestri fortnite vediamo se troviamo ah ce ne stanno un botto di canestri in realtà è settimana 1 o settimana 2 settimana 2 ok ce l'ho qua va bene quindi abbiamo detto qual era dov'era quella che hai detto tu che co che te la ricordi palmetto ok quindi andiamo a palmetto beh dobbiamo vedere dove dobbiamo andare ah beh è vero si a palmetto va bene e c'è pure un canestro a palmetto quindi direi che palmetto vediamo se mi ricordo bene io ritorni da tu eh sta facendo l'aggiornamento ah quanto ti manca io ci ho messo un po' a fallo sono al 10% intanto startiamo solo se ci sei starta ok e ci metti un po' jure almeno decina di minuti perchè poi te lo devi pure installare un attimo alla mia mano ma vediamo se poi alla fine fa sempre veloce verso la fine arrivi gli aggiornamenti ehm ce l'ho ce l'ho qua la mappa dei canessi ragazzi ce l'ho qua tranquilli nicolas francesco tu ero ti seguo dalla chubby bunny con il vostro perotex armato dovrebbe oh palmetto ragazzi qua tipo sta qui tipo qua qua sta qua sta al canestro la cosa che diceva checco la vabbè io starterei io starterei qua e poi ci muoviamo per queste parti che dici prima dovrebbe essere da queste quattro qua ma peggio più qua alessio 0062 lo puoi salutare angelo cast è bella simone raso 549 bella c sei un grande grazie mille martino viz 549 ti devo fare i complimenti di rinnovare emoticon per tutto quello che fai per grazie del mio preferito sicuro sempre grazie mille grazie 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 sì questa è una cazzata per me a me è una cazzata però sarebbe figo se tipo Deadpool raga per fare le missioni ovviamente dobbiamo cercare di rimanere in vita no che co qua noi avevamo detto io adesso non ti voglio di niente però vabbè adesso si fa no però volevo fare subito cioè volevi fare subito la sfida sì quella che avevo deciso io ah il basket da me hanno preso già le armi cosa faccio adesso voglio sto venendo io se riesco questo mi apre no non mi ha aperto mamma mia sol se volete se volete questo però dovete avere le armi mi fa mi fa mi fa ok fermo fermo te lo ti ho detto da sempre fa pronto non la fa sì 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 ma mortacci sua per un minisecondo simone raso 2.29 patto hd2 ero cimmi fai gli auguri bello bro auguri non si sa per che cosa auguri no vabbè ma per un secondo vaffanculo ci ho provato ma stavamo messi una merda quello è arrivato shieldato oddio santissimo però sto gioco sì un colpo glielo ho dato un altro no no ma è arrivato shieldato sì io gli ho tirato belle hit è arrivato shieldato io già stavo mezzo morto ci metteremo un botto a fare queste cose in tre simone raso 2.29 grazie mille ti ho fatto tutela cinquan e cinquan quando c'era patto hd compleanno beh adesso già un po' meglio perché potevo farti anche gli auguri perché ti puzzavano i piedi se ci pensi vabbè dai riusciamo comunque ad andarci dai fa a chiacare quell'emote fa proprio schifo va va schifo dammiano meta un euro grazie mille papà papà quella non mi piace è simpatica ma non mi piace come sono pieno di zanzari li mortacci loro dai 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 belli caillardi siamo quasi 15.000 grazie mille lo sapete che appena saliamo un po' comincio a spammare eventi libri cose quindi ce la faccio sono un po' vicino ce la faccio ce la faccio ma c'è gente c'è gente? c'è io non li ho visti eh eh io ho visto quella recente mi sentissimo non ce li poteva prima ste cazzo di armi no prima la merda doveva avere un'arma ce l'avevo era pure schiarica vaffanculo ma adesso i reti non si rompono più con un colpo una pistola ma dimmi se uno come ma te dogli dal chiazzo mamma mia mamma mia come cazzo fate a bloccarmi ogni volta dove siete macchi davanti a me SS dentro questa casetta eccoli abbattuto c'era lo scarro il pezzo di merda sei un altro gemello arrivano da me arrivano da me arriva un altro da voi che pistola di merda vai affanculo occhio avete preso voi shield prendete prendete ah ecco l'ho visto 3 4 5 30 30 ragazzi sono messi male 3 30 eh andiamo dai andiamo ragazzi mi dovete supportare che non ho molta vita siete voi quelli shieldati no no adesso 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 non sparare più vieni vieni con me vieni con me con me con me con me casa visto secondo al primo piano vaffanculo a me ha battuto uno infatti era bianco come la merda era bianco 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 era ok mo andiamo a fare l'altra missione fortuna che mi sono shieldato lì peccato una botta di granata eh immaginavo che la prendevi quella sai l'aveva tirata proprio a stronzo quindi mi mettete il ping sull'obiettivo? ehm certo se trovate qualcosa se trovate qualcosa regalutate perché proprio insomma non siamo messi poi così tanto bene no eh mi sento dire no questo è un momentaneo dai si c'è mo il gioco ci dà le grandi cose 200 di ferro ce l'è eh raga io no perché c'è la shield hai capito col ferro però ci mettiamo un botto non ce la fai no no non gliela facciamo non ce la facciamo non ce la facciamo col ferro la frattura portatile è 10 secondi è tantissimo ecco guarda è là guarda la frattura portatile ha senso ma credo che sia un po' troppo overpower dove che è? qua davanti vedessi 203 no non ho capito allora c'è 203 ah 200 preciso 200 qua sopra dove tipo era qua si poi era qua o è là no non era qua era qua perché mi ricordo il cielo cactus col fiorellino oh qua ole mi ricordo è ok allora aspetta che vado a vedere intanto dove stanno gli altri allora gli altri allora ce ne sta uno qua e uno qua andiamo per di qua dai se vedete attualmente no se vedete ah no non li possiamo prendere quelli vaffanculo allora ce n'abbiamo un canestro qua sta qua questo l'ho preso sono sicuro quindi gli altri stanno tutti da sta parte raga eeeh tre mi sembra ragazzi se non prendiamo un cazzo di jump siamo morti tutti e tre dai una frattura qua penso che c'è frattura eh controllate bene certo se il gioco non c'è da una frattura è un gran pezzo di merda la shield a sinistra si prendi la che ecco si ma adesso io non voglio la shield no no magari dopo questa cassa magari trovo la si gesù cristo trovi infatti non ho trovato niente nemmeno è tirato addosso ah raga niente stiamo andati attila finiscila siamo andati siamo andati allegria eh non ci ho pensato scara a sinistra prendetelo tante volte dovessimo uscire ma non usciamo no no assolutamente non ci usciamo impossibile uscire anche se fa uno di danno non ci abbiamo 75 secondi potremmo trovare una frattura portativa qua no no ma quando mai ma però qua però qua non è loot ragazzi eh che fai eh che fai attenti tutto per tutto che fai lootate mele qua ve lascio qualcosa eh dai sta cassa ti pare che non c'è dalla frattura cristo dio e dai e eccola no hai capito sol non era giusta dai però che brutto morire così bruttissimo nessuna bende vero una o sei ah vabbè magari oh bende per me dai dai che forse usciamo di merda perché usciremo ma di merda ragazzi io ho finito la bende sei morto ciao sol no non voglio morire così ebbè non lanciando le granate a me comunque non credo che riusciremo a cavarci almeno io sol ti è te lascia qualche benda ti è lasciagli qualche benda dai che forse lo tiriamo fuori va io non lascia te due io eh ok madò ragazzi madò ragazzi che dolore quante ne hai sol come sol te lo lasciate due l'ho presa che ecco quante ne hai due curati vai vai tranquillo secondo me ce la faccio uscire guarda attendo tutto per tutto con questa casetta dell'enel papà no riuscì mi sa che ci riesco però forse è meglio che mi abbatte e poi mi restate oddio potevo farlo pure io che stronzo vabbè potevo farlo pure io che deficiente infatti me lo faccio se se faccio pure io che stupido che sono stato e insomma fa freschetto qua frappol tutto fare bentornato fra gli abbonati zio fa mannusa i piedi di checco che stupido ho sprecato una benda santissimo di dio materiali come state messi 179 dei lenti e 105 di motone nessuno ha un valore ma che scherzi ma ringrazio a dio che la safe sta qua eh si che gli diamo i baci gli diamo no mattone c'è il 126 di mattone io 43 eh allora si col ferro vai tranquillo ne abbiamo 15 e ne do 22 io 71 te ferro se vi posso servire ma non ci arrivi comunque c'è il mattone si può recuperare non è che non si recupera il mattone sta qua però io ma edini ne ho pochi ragazzi eh cazzo di partita brutta raga una brutta vera ma no brutta poco eh soul che cazzo ne so amico mio va te la compra dai io vado una scoperta qua con che ecco che devi fa era niente qua hanno lootato che ovviamente wow wow dicevamo dicevamo no quella non la posso prendere uno sta qua uno sta là dai tante volte qua non è loot no eh troppo bello forse eh no forse non è loot vero no 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 è loot almeno qua qua è lootato speriamo speriamo oh là dietro c'è un airdrop bello cosa andiamo a prendere raga 195 ah ecco infatti dicevo ma lo so eh t'ho detto 195 eh boom senti cerca di trovare il mondo là dentro il mondo no ragazzi le sfide le devo fare per forza shieldini 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 io shieldini io scarcelò ah vabbè tiè prendetevi questo qua ce l'ho già che è soul vieni qua c'è c'è lo scar soul no eh sta qua vieni 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 almeno ce l'ho tre schiare così almeno ho pure una shield soul dai muovete sta là eh dove sta voi io a sinistra ragazzi oh mio dio ma quello è il fungo di gesù cristo comunque a 30 c'è gente e questo fungo mi costerà un botto checco guarda qua checco ma che cazzo è il fungo volante ce l'ho solo io bro i miei occhi dove era lo scar si là da quelle parti l'hai preso lo scar stava là oh ah ok shieldino qua eh che ti è successo checco c'ho mal di pancia ah eh quella è cacchina o scuregina no no la prima la prima allora quello non lo possiamo prendere quindi boschetto bisunto niente e niente solo appennacoli vabbè c'è un canestro ah vabbè il canestro qua vabbè andiamo chi ha lanciato granate tra l'altro gesù uno gesù uno 75 ragazzi stanno in safe sotto nord est due team eh sono veramente indeciso oh minigun qua sopra non come non detto ah quello quello è white eh ma ci abbiamo proprio quello da sua eh ah si ma non entra nei colpi ragazzi mi preoccupo del team sopra in realtà raga andiamo sulla montagna andiamo sulla montagna eh vabbè no ma come era la sua arriva razzo via 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 mamma mia no è un troppo giocare la di merda no ma vanno sotto mi sono andate tutte le hit sono andate quello c'ha dieci di vita non sto scherzando eh non sto scherzando dieci di vita scherzando Bambini da sobra E stavano anche sparandosi fra di loro Quindi hanno avuto anche l'accortezza di spararmi in faccia a me Va bene Mi perdono ma devo andare bene Vai vai Tanto che io reentra Allora Vediamo un po' Nikolas Ita nuovo abbonato Grazie mille Pago panico Frappo tutto il fare nuovo abbonato Matteo Malagoli 2 euro Mettete pronto ragazzi Gotslex 1 euro Ma ce l'ho io ce l'ho io Matteo Malagoli 2 euro Grimmilz U10 euro Ma quale video degli oggetti che Hai di fortuna Ah poi lo faccio Isidemi non tot Grazie mille Quindi qua dobbiamo andare Qua sopra l'ho preso Qua l'ho preso Credo che corso commercio l'ho preso Vabbè intanto in realtà vediamo dove ci buttiamo Ce n'è uno qua Ci possiamo buttare qua Che non è neanche male come spawn Stiamo tranquilli Siamo tranquilli Ok Tratto quanti siamo Live Uh 22.000 Bella ragazzi Bella 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 Eh sì Raga prima che ve ne andate Perché so che Andate venite Andate venite Eh link in descrizione Per acquistare Per preordinare il mio libro Su Amazon Di Fortnite Sempre link in descrizione Per acquistare i biglietti Il ciccio camera 89 live show A Roma e a Lugano Il 15 e il 27 ottobre Link in descrizione ragazzi No ma ragazzi Chat ce l'ho qua davanti La 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 cosa dei Vallini di basket Tranquilli Ce l'ho qua Ce l'ho qua Qua lì stiamo Ancora sfida a tempo Eh Eh Qua è un buon casino Dei fanno Delle costruzioni In vostra Sentite Tanto è free eh Ma mi sentite Sì Ok Non ho ancora Cerato Cosa dice La possibilità di essere Quanto è molto Vado Beh sul Vaffanculo Vaffanculo Che cosa Non hai capito Del vaffanculo Dov'è Il baschettino Qua Ah Eh perché Stava qua Giuri in giurello Sta dentro Qualche casa Dov'è Se lo vedete Fate un fischio Ok Ah arrivo Ma vaffanculo Iule No no perché Dice che c'è Dice che sta Meno Qui Più o meno Vabbè chi non ha Fatto le sfide Oggi Chi serve pure Da questo Dai ci sta Dove però Che cazzo Ma c'è qua A me sembra di no Allora l'hanno tolto Perché sono dei gran figli Di puttana Mi stai dicendo Eh Chat Chat vi risulta Ci sono passato Davanti Che Che mi dite mai E fuori E fuori Magari C'è Afficcato Ehm Vabbè ma voi lo sapete Perché L'avete visto Io non lo vedo Non lo vedo Chat Eccolo qua Dove Qua Ah grazie Chat Grazie Vabbè grazie Iure Ma in particolare Grazie chat Eh no In realtà Non è nascosto Per niente Però Michael Jordan Michael Jackson Michael cazzo Più lontano Vaffanculo Più lontano Mamma toia Vedi che mamma toia Allora l'altro E niente Poi si toglie Io Vabbè Allora l'altro L'altro Da qui Sta Qua Ci abbiamo la macchina Se vogliamo Ho visto Quando prendi 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 E portami lì Portami lì Dove l'acqua Non si tocca Andiamo io soul Che non ho un cazzo Di arma Andiamo Io si roppere Sto E' giusto Perché l'hai preso Pan Pimpa 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 Pippo Rantin Dan 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 Do Ma perché ci vogliamo Complicare la vita Dan 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 Do Rantin Dan 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 Aspetta 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 Eh si Già che ci siamo Diamo una Piccola Lutata Che Eh Se tanto il gioco Mi da ste grandi armi Ma da vede Se le vinciamo tutte Pistola silenziata Ma è un po' troppo Gliel'ho detto al gioco Ho detto Oh bro Stai calmo Che Uuuu Ma ci sta una miraghetta bianca Ma ci sta uno shieldino Trovato pure io Eeeh Viene prenderlo Ok Qua altri tre soldi Viene prende Con tutte quante le volte Che si usa la ballerina Dai venite che andiamo Dai Perché fa rima Oh madonna Quanto danno le stazionate in ferro Ragazzi Ma siamo pazzi 16 Come gli anni di Gesù Meno Si Eh meno qualcosa Dai Adesso è volvo univi Ah Avete preso la macchina? No Eh No facciamocela a piedi Va niente macchina No no C'è Pikachu che sta impazzendo Va Piì Piìì Sto cercando di fare tu uno shock Eh si Io ho il muti Duicesimo vapore Ah Quanto i muti Venite con me Tipo Vroom 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 Ne manca uno Comun Ma si tanto Te pare che troviamo qualcuno A spiaggia snob Su l'abbiamo parto per te Così ludi bene Prendi un po' di denio Anche per me Su Vroom 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 Funghi Vai vai tu prendi dei funghi Io vado a piedi Ti lanciavo Eh niente Non si è mossa Non ti lanciavo Allora qui Dov'è lo stronzo? Eh dietro Il giardino Ah si si Forse magari l'ho anche fatto questo Non lo so Vroom 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 Raga non è loot Qua Michael Jordan Ma Michael Jordan Gennicola Jerry Jerry Scotti Eh vaffanculo Jerry Scotti Tu mamma in cariola Tu zia in cariola Ma Vaffanculo Ma Vaffanculo Vaffanlovo Ma Gesù Cristo È grande Gesù Sempre nei nostri guardi Palindromo 10 ero è buon game Grazie mille bro Gente Gentile Gentile Stavo di gente ma non è vero Ma quello è uno scav dopo Eh lascio il medico per lo slurp Ho trovato uno scav dopo È beato a te È bello Ma si ci ho anche sparato Funziona Pensavo poterà farlo Eh Magari era finto Due slurp Ma Ma È lo slurpo Scurbo La prima casa Non è lì Sì E se partite così tranquille Eh chat Ci stavano dai Ogni tanto Come sembra Prendo il medikit Volete un vampa blu Ditemelo subito No Ok Ah Un bar Leggendario Un bar leggendario Io sono Oh cacchio Le shield qua Quella enorme Quella grossa Qualcuno può prendere Un shieldino No Vieni Te l'ho lasciata qua Dentro casa da me Capito Mi hai visto Dov'ero Sì Ok L'ultima L'ultima Possiamo Andarcene Qua Uh c'è una macchina Sì Ci sono due Di macchina Fai i cerchi Cerchio Eh Quello di fuoco Allora Yuri Abbiamo un problema Sai che Ah ok Vieni Sono mai rotto C'è coglioni Vieni dai Vabbè Esco dal bagno Ma non lo posso Spammare Eh Ah Ciao Sol Per zia Carmela Per la mamma Dio santissimo Dio santissimo Grazie Non riuscivo proprio Sol Per la sorella di Checco Per la mamma di Checco Davanti a noi ciampano Per il papà di Checco Edi Comunque davanti a noi L'ho visti 120 eh Ragazzi dai ludiamo un pochino Comunque l'ho fatta questa Quindi gg per noi Eh penso di si Non ci ho fatto caso Però penso di si Ecco bomba ragazzi Ha avuto causa cacchina Qua altra shield La prendo E' perfetto No le granate me le tengo Vaffa l'uovo Vaffa Basta Vaffa Sta l'uovo E' molto sembrato E' molto sembrato che ti darei un nodo Ah E' i cerchi di fuoco pure li devo fare ragazzi Si Eh ho detto l'altra volta i cerchi Se è la macchina o il carrello Eh cazzo I cerchi di fuoco Ma questo non l'avevamo fatto io e te Yure No Sei sicuro C'è no Vabbè poi li facciamo Poi li facciamo Ci dedichiamo passo passo alle missioni Facciamo meglio ragazzi Wii Domzone è qua Ah dom Ah Pinnacoli Ah Pinnacoli Qualcuno l'ha preso Sopra Trabollina Venite venite Quale collina Ehm Quella sud est Ah va Ah si 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 Macchina Eh già Potrebbe cadere probabilmente Ma gli hanno imbocchiato Eh si Facciamo cadere Dai sparate Sparate Olè Fatevi più male possibile Merde 27 Io non so come arrivare là Regà Vai Vai vaffanculo a tutti Come va va Andiamo 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 Bene Oh che botta Che bupprezzo E' pieno di trappole Dove sono? Ehm Uno Ma con gli occhiali Non lo so Ah Ho fatto una missione Uno con la macchina Occhio ancora altri Vabbè almeno le partite son belle Dove cacchio Qua sotto Faccio scendere Che c'era la roba da prendere Abbattuto Mamma mia Che botta Che gli hai dato Ragazzi I materiali Pochi Raga Dovete andare a prendere Quello abbattuto Fregan cazzo A me C'è ancora la trappola Perché è l'ultima volta L'ultima volta è scritto male Eh si Sto vedendo se posso Prendere qualcosa Ok ho trovato Si Non so Non so Non so dove stanno Però Sol White Oh yes Baby She's got it She's a baby Needs Got it Medikit No Io ho anche un valo Chi Eh 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 Facciamo Avete colpi Oh Avete colpi Lanciarazzi Se si lasciateli Si ce ne ho Prodini da me Quelle porche cazzo Qua 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 Due Raga Eh li prendo Ce ne dobbiamo andare da qua Perché Fra un po' viene anche Mi nonna Jure colpi Lanciarazzi Bene Let's go Let's go Eh Pochissimi Zio Io sento macchina ovunque Ma Ah eccola No no Al cazzo Ugo? No 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 non è Ugo Non è Ugo Si No no C'ha E io vedo che c'ha La skin Si si ma sotto Sotto Vedi c'ha la skin Ah è Ugo si è vero Lo fai tanto da sopra eh Guarda con lo stronzo Guarda giusto la skin De checco C'è poi ok Qualcuno ci ha sparato Si No perché Sempre Eh Si ma qualcun altro Ci spara Regà Si da dietro Probabilmente Si da dietro Si si da dietro Andiamo 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 Fate il zigolino zigoletto zigolino zigoletto Dobbiamo andare sopra Eh ma quello dietro deve morire Deve Andiamo sulla collina Si 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 C'è Pikachu che sta a fare Una casino Casino Regà Ah E' tua Ma L'aspettavi eh Dove stanno i pezzi Di stronzo Non so qua sotto A me sembra che qua sotto C'era qualcuno Si si Mi ricordo da te No no Quelli ok Quelli ok Vabbè Hai un boccato Un boccamo per bene Vaffanculo va Questo chi cazzo è Questo non lo conosco Ma che cazzo Ne so Sol Coriandoli Rianima Rianimalo C'ho medikit bro eh Quanti ne hai di medikit? Eh Due Tre Ok arrivo C'è un botto di roba guys Prendete qua Servitene tutti Ti è un medikit Ti è un altro medikit Via Te la faccio a curarmi? No Impossibile Eh oh Non ho visto Un cazzo di shield È pazzesco Ah quello non l'ho lootato No È rimasto quello dietro Ma siamo bravissimi Davanti a noi Davanti a noi Sì Vieni Sol No no Eh L'ho bloccato Lo colpito Ah Stupida Bibi Stupida Bibi Lì non era La rianima Iore assolutamente Sì Zà E la vincono anche Signori E la vincono anche Senza chi che è più facile Vero? No Un bel like Ragazzotti Dai Allora Sfide Terza settimana Spara un piattello In luoghi diversi Allora Eh che ci vuole Sfida Piattello Fortnite Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ecco adesso si Eh adesso si Ce l'ho i piattelli Ce l'ho Goz un euro Pago un euro Frappo Già l'avevo detto Matteo un euro Goz un euro Questo l'ho letto Final Geo Due euro Deatore Ciccia Grazie mille Axwell Quattro euro Porta a casa Questi vittorie Grande ci l'ho fatto Bro Giacomo Dazzi Un euro Palindromo Dieci euro Buonasera Buon game Grazie mille Il santo della porchetta Due euro Ma perché sei nella Bella Ciao Di Steve Occhi Rosario Legnate Due euro Bella C Ah si è vero È vero È vero Hai visto Che sto in quella canzone là Eh Hai visto Ecco Joker Rosario Legnate Due euro Bella C Buonasera Mi saluti Bella zio Allora Ad aver donato a Black Qualche cosa L'ultimo Parlo su Paypal Diaulo Diaulo Un euro Bella Ciccia Quanta stima per te Grazie mille Antonio Franchini 3 euro Ciao Ciccia Per si saluta Il team Zutvich Bella Alessandro Curcio Due euro Grazie Ciccia Che mi inserà Impegni il tempo Per intrattenerci Per quanto pochi siano Volevo darti il mio piccolo supporto Grazie mille Non sono pochi Sono tantissimi Due euro Samuele Un euro Ciccia Ciccia Volevo dirti Che sei un grande Persona E ti estimare Ti amirai Ti ringrazio Per tutto quello che fai per noi Per venerci Buona compagnia Al team Il team Il team Continuo Il pack Di voglio bene Emanuele Furbini Un euro Grazie mille Allora no Aspetta che vi dico io dove No Dobbiamo andare a Questo Via C'è tutto il piettello Lì sotto Si Però Quindi ci serve l'arma Quindi andiamo dentro Al labirinto Bene Andiamo al labirinto Poi andiamo là Sono tantissimi Dai Rimorchi in botto Tanto non c'è nessuno È free ragazzi Is a free Pizzanenia Fenenia Bella Arberella Di merda Eh sapessi pure io Ci vuole revolver Bianca Se vuoi Devo a cambio Dai Vieni Dove sei No no Ho trovato il teleporter Barbarona Norto Capito ragazzi Si chiama Ho trovato il teleporter Venditura Venditura Tempo spazio Temporale Bibi Ti voti Bibu Temporale Andiamo Allora Sta Esattamente A Esatto No no È esattamente Lì Ok Tanto 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 ne devo fare Uno solo Ah ok È sicuro Che non l'hai fatto Hyperdug Boh Hai visto si che titolino Che t'ho fatto eh Tu solo il tuo ciscio Camero 89 Certi titoli così profondi Ragazzi Un certo Ed Manuel Che verrà ben nato a breve Mi ha scritto Fatti una vita Che a toni esci Da quella Cazzo di casa Mo Che faccio Chiudo il canale Ah eccolo il piattello Là a sinistra Buona la slurpa Qua possiamo anche Lutare Vediamo quanti Ne riesci a fare Ne tira il piattello Ma uno Lo voglio prendere Basta Ma è una papera Ah comunque Ne devo fare altri Cazzo Allora L'altro È qua Ma l'ho preso L'altro È qua Ma l'ho preso E quindi Ce ne dovremmo andare O qui Allora O qui O qui O qui Centrale Non c'è nulla No Zero Sta solo qua Ma io già L'ho preso Quindi dovremmo Andarcene Qua Vabbè Dai Lutiamo al volo E ci andiamo Dai anzi Se volete Se venite Andiamo subito Dai sti cazzi Come va va Eh si Te l'ho detto La sfida Devo fare la sfida No non è detto Che muori Prima abbiamo Siamo sopravvissuti In una partita di merda Dai guys Da me Ci siamo Da me Oh Eh Te l'ho detto Ma prima Te l'ho detto Yure Yure vieni Dai Yure Dai Lascia a perdere Quello che devi fare Se no non ce la facciamo Yure Neanche è detto Che riusciamo ad arrivarci La One E two E one E two E three Che figata Ragazzi Aprite subito Tanto non ce la facciamo Eh si Ma le sfide a tempo Non le hai fatte Oh poi le faccio Fenditura qua Da me Fenditura qua Da me Venite Qua Qua Ti siete Yure Qua Vieni qua Dai Yure Mannaglia te Aspettiamo Yure Eh vabbè Poi ho detto Vieni qua Vieni qua Ho capito Vieni qua Andiamo guys Quindi dobbiamo andare La Va bene Se ne vedete un'altra Ci si buttiamo Ok Sta là Al blu Dove ho messo io Eh si Se vedete fratture Le usiamo Fratture sotto Vai Tutto sto culo Pa' andare fuori Safe Guarda Eh no Ce n'è solo uno Va qua qua ragazzi Ecco Ok poi ci porti Eh ho capito Sto qua da te Dov'è Ok Merda Da dove Quindi Hai usato Sbagliare Ma mi aspettavo La papera Ok Dov'era Dov'era Me ne manca l'ultimo Dai Sì è uscita Sì No Ah mo dobbiamo scappare Dalla safe Però Solo l'hai presa la pozza Sto bevendo Ci stiamo scendendo qua Prendo prendo Andiamo andiamo E a e a e a o e Ma che ca Vaffanculo Shield di merda Che co Bevi di culo shield No eh Dov'era la frattura Eh Sono a montagna Non mi ricordo Orca troia Comunque non possiamo più farla Sta missione Poi la facciamo Oh qua cassa Ecco la frattura davanti a me Nord Eh aspetta Mo arrivo eh Prendo sta cassa Wow La roba Dov'è la frittura Solo Davanti a me Madonna Quanto state donando Ragazzi Madonna mia Aspettate a prenderla Se non moro eh Beh oddio no Non muoio però We are number one Yahoo Allora l'altra Sta Lì Qua Tipo Ma non riusciamo E niente L'altra Troppese tutte Vabbè Adesso si gioca Normali Ma che te frega Ma che te importa Ma che te importa Guarda davanti a noi guys Dai bella easy Dai quelli ci hanno borsato le armi Andiamo 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 Ma non c'è granate Attenzione Granate Ah che bosta Battuto? È bello squishy Guarda Eh lo so Lo so Unico C'è il cacchino di Oh si Via 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 Da qui Via da qui Oddio Scusate 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 Non le volevo Aiutatelo Ti giuro Se volete Qua le bandage C'è le granita Ok L'intro No Grazie mille Per l'abbonamento Grazie Grazie Che ecco qua Ah vabbè Hai visto che già siamo messi meglio Io se C'era un caccia blu Eh ragazzi Nove granate là Jure C'avete granate? No Ho impulso Eh lancia granate per fuori Scusate Dicevo No 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 Missili 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 Me lo tengo ma Per collezione C'è un bellissimo Acqua Per l'esposizione Io materiali sto messo Una merda Mirko dove sei? Tieni vieni qua Nice Thank you so much Ah È una buona roba Nelson Vittoria 15 Benvenuti tra gli abbonati Dopo vi leggo tutti eh Paraparara Wah wah Papà Ci sono anche le mele qua Chissà Perché? Lo fai? Perché schifo Tu fai che coiieie Che sfiga non poter fare quella missione cazzo Vabbè tanto Vabbè ci mettevamo una partita in meno se ci pensi Ce n'è una qua? No no Quelle l'ho fatte tutte purtroppo E quella l'ho fatta Quella si Quella ti pare che non l'ho fatta Secondo me l'ho fatta Secondo me l'ho fatta Era talmente tanta portata di mano Colpi di pompa Ce n'è un 16 Ecco ce l'ho io Ti ho Lasciali Lasciali 619 Vedete Vedete 99 Vuoi tutto vuoi Tieni Adesso si che si Adesso si che si Comanda Quindi la vuoi nel ristorante No Ti do il secondo Ah sta al secondo Sol Perché sta al ristorante Sì Esatto Anche te al no Grazie Però la mia era quasi da 10 Un cecchino bello Lo volete il cecchino bello Prendetelo il cecchino bello Ma ce l'hai te l'altro No questo è quello Questo è proprio Quello è proprio Quello è proprio per perdere le partite Questo No no Troppo lento dai Eh Ehi Andamelo Ho messo troppo lento Eh Eh Ma Adesso che cerchiamo gente Non la troviamo Prima Neanche Gesù Cristo Stava con noi Sì Tommaso Belluzzo Ho fatto un libro su Fortnite Uscirà a settembre E lo puoi trovare Già in preordine adesso Su Amazon Link in descrizione Qua sotto Tu lo sapevi Tu lo sapevi Jure Cosa La guida Eh sì Jure Ho fatto una guida di Fortnite Quando? In questi giorni L'ho controllata tutta io In particolare Salva il Mondo Sapevi? E poi ho fatto tutti gli screenshot Un lavoraccio ragazzi Un lavoraccio ragazzi Eh ma non vi credete Poi io l'ho perso Le mie 13-14 ore A rileggere E a scrivere tutto quanto È stato un bel lavoro Ma una certa Con Roberto Non gliela faccio più Raga Ma seriamente Cioè ma mica Per Roberto Ma perché? Frame laggo comunque Oh Ci sta ancora qua qualcuno Probabilmente Ma no È stato Jure Sicuro al 100% No no C'è qualcuno Siamo davanti al 15 Chi? Non l'ho visto? Il film nel gioco No mi sa forse E quel film C'è una rapide rischiosa Praticamente Hanno fatto il concorso Sì Con il replay Sì Hanno fatto la storia Hanno vinto L'hanno messo Sono molto Sono molto più contento Comunque frame laggo Un botto Un botto Un botto Un botto Tantissimo Raga qua C'era anche sto cazzo Rola c'era Dammi questa roccia Stupida baby Raga in tutto questo Non ho trovato colpi Del lanciarazzi A me pare così tanto Stronza come cosa Se vi servono i medi Ditemelo eh No no Un altro termine E poi non è che ho trovato Così tanti materiali Vaffalo Qua non è loot Ecco che hai lasciato Il termine Non credito No no Sono leggendario Ok Non sapevo che sbagliavo Jure Jure Ma non ho capito È qualcuno di matto O è qualcuno che è fio di puttana Pompa qua Pompa qua Pompa qui Pompa qui Jure Franco A te quello che ti piace Jure Ho lasciato anche una shield C'è ancora la cassa L'apri Posso stoccarla Ma aspetta C'è un pompa tattico a blu Io io posso Grazie per reto Che mi blocca la strada Cosa è Prendere un riga Cosa Cosa non Eh Cosa c'è un po' Un attimo Sto prendendo un po' Che fu il diregno Mirko No Lasche bugate come sempre Jure Riesce a trovare una skin Senza Pantone di bugati Guarda Jure Lo vedi la tua destra Che palle sono Guarda Vedi Va Le perdo Ecco già Nel team Non conti un cazzo Se per favore Ti muovi Lo so Che c'è carrello Eh Quello che c'è nel te È un culo Comunque tre e trenta Credo che fightano Dici delle belle costruzioni Eh No c'è gente C'è gente Jumpano AAAAAH Vado se lo prendevo Ma che cazzo Ce ne frega Stiamo lontani Ma quando c'è piano Ecco 37 blu Oh ma quando c'è piano Ma che te frega Ma che te importa 37 blu Comunque c'è il termico Il fio di puttana Ecco perché fa male Madonna Ma qui che cazzo Hanno fatto Parco giochi Ma che però Poi c'è cazzo Da prendere Ma quelli Non ho capito Troppo è andato Verso l'infinito No Dai 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 Non li vedo E che qui c'è un carrello Eh sono là dentro Eh lo so Dentro il carrello Cazzo Dentro il carrello Non li vedi Perché è dentro la retina Ma qua davanti a noi Eh Dicevo Secondo me c'è qualcuno Tutti i veri Ossi Delirio New York Sta scappando come un codardo Ok Ok Occhio raga Full team Minigun Minigun Colpito in faccia 150 Non ci credo Però Non mi facevi questa costruzione Da me ragazzi Mortacci Sua Da me Sta incazzato Nero Regà Ma Ma come C'è Arriva No Ragazzi Da me È un grandissimo Figlio di puttana È divertente Guarda Sta là dentro Da me raga Regà Ci sparano No no Ma da me Per il momento È gestibile Non è più gestibile Se non pensate I vostri A me Mi spaccano la faccia Ok È caduto Va bene Mi spaccano la faccia Di palco Non senti Attenzione Ah Già ho finito pure I cd Non ho niente Casa Stanno là Guarda che bastardi Ah Non è morto Quello Ok Ha fatto splash Apro Apro il muro Apro il muro Lì davanti Cecchinate Anche casa Sae penestrella Quando vuoi apri Apro Avete visto Dov'è la safe Io basta Basta che Quando Apro Pronti Apro Regà Sta da loro La safe Sopra Sopra Amico Sparate sotto Sopra Spara Bravo L'altro E uno L'addetto Dunque Ho fatto Ah Cazzo Lo facciamo Andiamo Un safe Avete lancia Granate Ragazzi 12 Eh cazzo Datemi qualcosa 12 Di sul lago Poi io prendo la mini Si l'ho visto Eh si Questo lancia granate Sarà È uno sfondato Ma È importante Medi li lascio qua Bene Che sono in safe Si Costruisci A uno Gli ho fatto malissimo Sono tutti dietro Casa Sì Ho rinforzato da te Yule eh Un botto Eccoli Uno Patti Okidoki Ma È GOKU Sto morendo raga Raga quando facciamo la vittoria Gli abbonati devono spammare la mia faccia con la corona Ragazzi ma che fate Cioè All king Con scritto win Allora Ah no Devo fare quella sfida lì I dischi Ok E poi la E poi I dischi Poi la quarta settimana elimina nemici nello sprofondo Stantio Ah si è Dove è Dusty Depot Ok E poi Cerca i forselli nel laboratorio della latrina Quindi facciamo Dusty Depot E facciamo Cazzo però perchè l'ho tolto Com'era? I cessi No 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 Piattello Eeeh Piattello Di trovare le casse Al laboratorio della latrina Quindi piattello dobbiamo andare adesso Eh Ma ci resta uno vicino Allora qui Dobbiamo andarcene qua ragazzi Qua Va bene Dobbiamo al laboratorio Ok Ok E se c'è va qualcuno All'al laboratorio che devo fa? Le casse Ah lasciatemele Adesso E' quello che vuole fare Di casse No L'ho fatta quello del sprofondo stantio Va bene Quindi comunque devo andare a cercare Comunque i cessi Ma come si ringrazia? Anch'io ringraziamo Ma come si Appunto Ma ringrazia automaticamente Sì sì Guarda l'ho ringraziato Sono fortissimo E a me non ringrazia Io sono maleducato Io sono maleducatissimo ragazzi Sì così mi lancio Cosa vuol dire sto merdato? Oh Sì Adesso hanno ben girato il frame lag Penso un po' Nella vita vera che ringrazia la pista Nessuno Fate il suo lavoro Non viene anche pagato Ah tasto giù Dico Non ho bene Madò Vi ricordo qualora trovate casse Di non aprirle Prirle Grazie Bene Strebbe essercene una dove sto andando io Qua Che è messa dentro Guarda che solda Allora Una l'ho aperta Che? Quando trovate casse ditemelo eh Una l'ho trovata un'altra Anche te che è qua Due Qui niente Ma intanto tranquillo La missione la dove fa io Ci dovremmo andare 50 volte Non mi hai detto solo tu casse Perché va a fa culo eh No no Guarda me io No no Non è che Dove sei tu Ok Dove è su Dentro su Ok Quindi tre Uuu Guarda però lasciami qualcosa No Tieni Ti ho lasciato qualcosa Quindi Ragazzi Tre per il momento Ok Vieni Vai spacca Ok Quattro Oh E' sempre Trammellino E' messa che non ce la facciamo guys Aspetta aspetta Qua è controllato Arrivo il sold E' messa Sì guardami Sì guardami Sì sì lo vedo Sì sì lo vedo Hai container Container Dentro i container Vedete un po' Ok Cinque raga Guarda per due cassi di merda Ah la una Oh eccole Sì vedi che sono sette Trovate 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 Ultime due Hai visto Yure Aspetta faccio così Tieni Sol Tieni Sol Non mi servono Vaffanculo Sol No no L'ho trovata L'ho trovata Sol però Tutti sti cildini Dobbiamo prendere E' bravo Buono dai Ok Dai Questa l'abbiamo fatta Quindi mo' dobbiamo andare E' pure qua Fallo col carrello Guarda aspetta Eh ci sta il carrello Sì 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 Te lo richiedo Hai intanto una scala Ok L'altra qual'era Amica mi ricordo Qual'era l'altra Chat Mi spacchi qua A prendere il dischetto Ah il dischetto Sì cazzo Dove è Yure Qua Dove sta? Non lo vedo io purtroppo Eh sì fatto Però c'è la rampa Yeee Ma che codia Sì arriva arriva Scureggia Sì Boom Ok Raga dopo leggo tutti Grazie mille per il supporto Mi raccomando lasciate un bel like Ok Assidivo Ma calzino Devo fare leggerlo Ok va bene Ci sono Non fare Assidivo Chiuso Sinistra 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 Imbecillo Dov'è il blu? Sinistra Vai Eccolo Ombrellino Eh lo so Guarda quando non possono più mettere che corre Sta cosa è lentissimo Mamma mia Sto serendo Lui che ha tu tardo Lo sai che l'hai fatto questo cerchio? No no Dobbiamo prenderlo Eh Io 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 Eh io Ma mi è così fazza Ok Fatto Eh Dov'è? Qua qua Ehi Ehi Non lo vedo qua Non lo vedo qua Preso 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 Eh sì Safe Mi sembra giusto Quello lo vanno con i carrelli E noi no Ma io l'ho fatto Di andare con i carrelli Ho fatto la carruzzia Dobbiamo andare qua Guys No Neanche a me Eh Andiamo al faccione ragazzi Al faccione Marco Sprigico Benvenuto Fra gli abbonati Bru Il chug Buono Sono ribelle Quanto l'ho fatto Ti sei fermato Eh 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 Merda Mi dispiace Niente Mi dispiace Andiamo 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 Venite Ah no Conviene che ci portiamo quello Ma no dai No poi lo facciamo Andiamo venite Yabadabadu Dobbiamo andare molto lontani guys Quindi è finito i tiro a piattello Sì I tiro a piattello sì Anche se vediamo gente Tiriamo dritti eh Anche perché c'ho pochissimo materiale Eppure io Quindi Li attiriamo tutti qua Eh Sopra Vedi La sinistra Sì Eh Senti Magari Sì 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 Guarda i lampi Stanno Sia sopra Sia sotto Ragazzi Venite con me Dai Venite 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 Sitto un po' Ercatroia Ercatroione Che fatica Ma Dai che Cazzo Ha battuto uno Non me l'ha data la kill Dai uno ho fatto fuori Comunque qua non me le dà le kill Qua sarà difficile fare sta missione Vaffan bro Forca puzzolona Maledetto Oh che bot Io ho gli cildini Arrivo Comunque si su dasti Proprio sopra dasti Già le ho fatte Ma non lo so Ragazzi Cildini no Ce li ho Servono gli uri a checco No servono gli uri a checco Vabbè intanto li prendo io Dai Raga materiali Qualcuno ha lootato materiali Eh 190 di lenne Ho finito Eh dobbiamo attaccare sopra Dasti ragazzi Dai Eh sì dai Ok Dietro Dietro raga 285 No 3.30 Ah abbattuto Pezzo di stronzo Vaffanculo Fatti i cazzi tuoi la prossima volta Chifoso Oh so Che cazzo ha fatto Raga Dimmi bro Anche da me pieno Uh da me pieno 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 Raga Eh Jure da testa arriva al mondo Ok Brutta situa raga Brutta 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 Madò Che brutta situa Quello Che cazzo vuole Ah Stronzo io Raga Dovete fare un po' di fuoco a nord est Se no siamo morti qua Vai Solo Costruisci Che merda Che stupido Questo stato Stupido 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 Poi scappa subito Checco Vai eh Vai vai Non siamo in safe Arrivo ragazzi Sono tornato Dove stanno Dove stanno Buono Buono Sì Avete colpito il lanciarazzi Eh no Però una bounce Eh ma la picco un culo Ma la picco Ah beh buono Io colpisco il lanciarazzi Se non sei Grazie Stupido Eh no Queste sti cazzi Le prendo Che dolore Che botta Che fu presa Mi do materiale Io ho band Io ho un medikit Ah eh No Solo mi lasci il lanciarazzi Mi lascio il medikit Medikit Oh oh Dove è Bru Ma qua 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 Sopra Ma Fai la famiglia Fai la famiglia Ha battuto uno Ah qua 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 Che è con lì Passa lì cazzo Sto gioco in terra Riesci a venire da noi Non lo so Vieni qua Curami 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 Lascialo Lascialo Costruisci Costruisci Vai Ehi cildini Checco No Bende Cazzo Stanno qua i cildini Ehi 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 Ah che botta Vabbè C'è sta Devo fare Quindi ci buttiamo qua ragazzi Ma forse mi dicono che già l'ho fatta Non lo so Non lo so Probabilmente l'abbiamo già fatta queste mie Boh Non lo so Allora vediamo Sfide Devo fare la quarta settimana Devo fare Salta nei cerchi di fuoco Con un carrello Nella spesa O una tk Quindi cerchi di fuoco ragazzi Devo fare Allora Sfida Circhi di fuoco Sì Cioè sono due Allora Sfida Circhi di fuoco Uno vicino Ah eccoli qua Li vedo Li vedo Li vedo Va bene Ci buttiamo vicino Piagge snob Con le parti là Che ce ne stanno là Sì comunque è vero chat C'avevate ragione Eh uno Ce ne stanno cinque Ah quindi l'hai fatta Nella tassitivo Sì Quella sì Andre 997 Due euro per la ciccia Come va bro Tutto a posto Grazie mille Cristian un euro Davide Capparo Un euro Grazie mille Valerio Barbagallo Un euro Starling Due euro Ciacizzo di me I miei amici Cela e Bussi Rosario Inlagnante Due euro Buonasera Mi saluti Bella Il santo della porchetta Ok già l'avevo fatto Quindi l'introno Nuo abbonato Mariano D'Angelo Due euro Ci mi saluti Davide il pinnolone Sei un grande Grazie mille Nelson Vittoria 15 Nuo abbonato Samuele Gortani Nuo abbonato Grazie mille Matteo Bezza Un euro Samuele Gortani Cinque euro giochi con me Un giorno Prima o poi Chi lo sa Marco Gamer Due euro bella ciccio Come stai Sta a posto Sei mille Pippo 16 Due euro Mirko sei un grande Quando verrai a Catania Non lo so bro Sviste Bang bang Due euro e 29 Buonasera ciccio Sati massa Tra il 49 Jacopo Cesaroni Un euro Marco Spricico Nuo abbonato Cristian 07 Dono un euro Un euro E Nico Game Un euro Madonna quanti ragazzi Urca Siamo poi un botto oggi ragazzi No vengo anch'io Allora raga Allora stanno Un botto Un botto Un botto Un botto Qui Qui E una sta anche qua No quindi andiamocele ai barbari Che dite Andiamo ai barbari Facciamo lo start E poi Vedi per esempio là un cerchio lo devo ancora prendere Pure là sopra Mi sa che un cerchio lo devo prendere Allora devo prendere sia il cerchio a spiagge Sì Siamo il cerchio qua ai campi di calcio E sono due Eh è qua Ai campi di calcio Eh Quindi uno e due E là li devo prendere Ok Apples Ovviamente sì Un botto Davvero Davvero Prego Gesù Grazie Gesù Non mi dai Don'arma Quanto a morire Ma due Chi li ho fatto Sto qua Sto qua Sto qua Sì Occolo un altro Dio Santissimo Bergamasco Ah ma sei tu No 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 Restalo 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 Solo mi hai fatto Mette una paura Ah Fanno Uno Stai con Scendini Madonna Madonna Meno male che il dio Bergamasco mi ha aiutato Vabbè Beh in realtà mi ha aiutato più lo slurp Però Eh sì Gente che ciampa Sopra di voi Ok Lui si è dato Di nuovo la Fattura Ok C'è la cassa La Iure Allora Scendini Eh Allora C'è la cassa Ragazzi Sono quattro Beh quelli vanno presi Rilasciati Qua 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 C'è entrato Oh Bello il teleport Vai vai Ora ci manca Mo ci manca Eh buono Se venite con me Ci muoviamo Dai 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 Io qua Te le porte Non li ho visti Sotto di noi Sicuramente c'è gente No Eh te lo giuro No Te lo giuro Porca merda Che botta Per far pro gamer Vedi che cazzate Che se fanno Porca miseria Se mi hanno preso Le macchine Mi incazzo Tanto Ah qua Gente C'è stata Magari ci stanno ancora Non lo so Gente Qua Da me C'è gente Qua Sì Andiamo sopra Però Io mi sono molto divertito Ok 3-4 Verde Se volete qua Vendere Sarebbe Devo Di combo Invece A quello Jure gli ho dato Una botta In faccia Purtroppo Non volendo Ti sei messo Davanti E mi hai bloccato Perché Tennò Sono Lo crepavo Cazzo Se trovate Carelli A macchina Eccola 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 Proprio così Devi fare una controllatina Al motore Eccola 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 Una botta In faccia Raga Eccola 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 Eh ragazzi Sapete che Mi fate una scaletta Per favore Non l'ho preso Aia Che male Eh ragazzi Sapete che ho dei problemi Con le macchine 4 di 5 Andiamo Andiamo Venite Venite Ma tranquillo Bro Guarda Io giocavo a MotoGP Tieniti Tieniti Dai Quello Quello E poi Ho finito Prendilo Prendilo Ma Madonna Ragazzi Mi sembra un po' esagerato Grazie per la compagnia Aspetta Mirko Mirko Trocca 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 Forca troia Vabbè comunque L'ho fatti No questa Esatto Quella Comunque ho sentito Gente a pinnacoli Ho un falo Ragazzi Se viene da me Ma no Io farei Il falo E quello Lo stoccherei Sluirp Sluirp E buono Aiutatelo Dov'è lo slurp Dov'è lo slurp? Dov'è lo slurp? 75 Checco Davanti ai tuoi Apropaccio Vuoi me Non li vedo neanche io Però fa niente Però erano lì No no ma Sì Non con te Con Checco Ecco lì Ma non a noi Ah Sono molto lontani Ma guarda A 195 Allora sono due team Uno a 150 E uno dove ha detto Checco Venite con me Io ho pochissimi materiali Eh Sto con te Gente Arrivano Dentro È pieno anche qua Ci facciamo questo dentro Per favore Guarda l'arcatroglione A chi C'è 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 Ma dai 7-5 E resta 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 Non so dov'è Porca projona Sono cascato di sotto Ah E tu checco Quello che vuole essere Dai dai Ci facciamo checco Bello squisci eh Iure Ne sono arrivati altri eh Parlo 2-3 band Oh Il coniglio di merda Eh Infatti Sta ancora là Ah Checco Vieni da noi È vero No Ah Ha battuto Ammazzato Raga Nord-est Sì l'ho visto Il coniglio è morto eh Il suo compagno è scappato Verso Vieni Solo dove sei Non ti vedo Vada Vada a lutare il coniglio Ho fatto un po' di materiale Eh Ah Ha spaccato la prima Tieni Checco Eh Ricordatevi che ho Io ho La frattura Ricordatevelo eh Eh Allora intanto mi prendo il medica Raga qua c'è la Thompson E Sì E Bende Senti Ci siete tutti qua Venite qua da me per favore Eh Non ho materiali Materiali Non ho pochino Dio Santissimo Questo stronzo Dov'è È sempre lo stesso No ho capito Mi ha rotto i coglioni Mi ha rotto i coglioni A me Fidati Io Ho il falò eh Eh Cioè non può stare là A batterci tutti Piano piano eh Cioè in realtà sì Andiamo per favore Che io voglio spaccare la faccia Eh Per favore Eh Poi È tenuto Tutto qua Guarda mi risparmio Cando sta questo Non ne ho idea È un cazzo di nisi Forse no Questo è Coso Cioè Serpente La di snake No Quello di cecchino La non mi ricordo Raga dobbiamo aspettarlo Per qualche minuto Dentro un cespuglio Fare il bug Fare il bug Dell'orologio Dentro la play Che mandiamo avanti Di un giorno E muore di sede E esce fuori Eh esatto È lui Raga Era fortissimo Mastro cecchino Incredibile Pazzesco Fantastico Raga tutti qua Andiamo Andiamo Maruto il cazzo Vedete un po' Se trovate qualcuno C'è un fortino A 300 Eh Sì Andiamo sotto qua Nord-destra Venite Chi è sto strozzo Di merda Dove sei? Andiamo 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 Da questi Qua sotto Eh Sì Bello A che cazzo Ho sparato Sol Dovrebbe essere Non ti dico White Ok Pronto a questo C'è pure Tanto lento Sol A sapere dove cazzo È lo stronzo Ok Vai Affanculo Stupita Stupita Bibi Dov'è Stupita Che significa Ah ok No no Eh vabbè Ce l'ho provato Regà Oh Checco Yure Dai un po' Ma che Ci vado subito Eh l'altro Ti ha seguito Sto coglione No Eh ok L'hai seguito Punta E basta Checco Non è che Non so che l'ho seguito Ma mi sembra Non ho delle munizioni Eh beh certo Perché se restavi me Poi ti dava le munizioni Era tutta un'altra cosa Mortacci C'era un medikit Chi l'ha preso? No C'ho una band Vuoi la band Sì C'ho qua la band Tacci tua Gioco di squadra Zero Li mortacci vostra Ce l'ho pure io Ce l'ho pure io Mortacci vostra E lo vedono Un loot Regà è fatta Non ci vedono più Ma in particolare Checco Prima era Yure Vabbè Mortacci Su Niente Corre Amore hai preso le munizioni Stiamo stai bene Mazzi tutti Fai le kill Adesso è andata Adesso sei l'invincibile Checco Giusto Ragazzi La Venite Venite Prego un cazzo Venite com'è Devi costruire però Più di uno Più di uno Madonna Quanto era bianco Vabbè Ritorniamo alla jump Fast Raga Tutto mi arrivo Checco Che sto giro C'aveva le munizioni Ma è il più forte del gioco Minimo Italiano Si Avete razzi 8 Tieni Che palle Mamma mia Veramente Ma prima Non è lootato Mannaggia Manda un reclamo L'epic Ma è che così forte Che può tenermi Lo dici di razzi Non è nello 75 Dentro Davanti a noi Davanti a noi Dite qua Io dico tanto Ah io bombardo Gente 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 Mi sembra C'è nessuno Ah vabbè Volevo fare un po' di sospans Venite con me Non ho fatto una bella cosa Manni mortacci vostra State fermi Eh che cazzo Ti riti Mi fai morire Che cazzo Ti riti Eh Parco te faccio i trick E mi fa le scale Mi fa Mannaggia la puttana Ma si Sti cazzi Taci Tu a Yure C'è che lo prendo io Yure Sol Checo Checo Vieni qua Ragazzi 155 Cosa vuoi dimmi La mia minicam Ah con la minicam Era mia Tieni E l'ho ripresi Scusa Ma non tu Un deficiente Yure Questo 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 appena sente uno Che deve da qualcosa Se butta le mortacci Tu a Sto gotardo di merda Dov'è questo 158 158 Ma porca troia Ma ti pare il caso Di colpire alla Già quei problemi Che c'è stanno Di terrorismo Solo Terronismo Terronismo Ti pare il caso Per me no eh Ragazzi Ho colpito alla Terrorismo Terronismo Eh Volevi Uno È pieno Panino 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 Ragazzi Salite Salite Venite con me Venite con me Venite con me Dietro 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 Si attacca dietro Che cazzo salite Matti Sei morto Venite qua Non hai più un panino Non sei un dici Ah T'ho preso T'ho spaccato Battuto Dai dai Passa C'è un altro qua C'è un altro qua Frecon cazzo A me c'è un altro Capito Vai Yure Vai Rendimi fiero Qua shield grande Se la volete Shield grande Qua a destra Da me eh Eccolo Madonna Va bene Sono di bastardo Mangia tutto Ragazzi Io lo ripeto Yure Qua c'è la shield grande Ce ne sono due Vaffanculo Allora la prendo io Questa Vai Voglio i shieldini I shieldini I shieldini Li prendo io Prendete quell'altra Grande Nessuna Trappola Basta tranquillo bro Eccolo Ho visto Trappola C'era Yure Si soul Ma non mi corre Sto gioco Scusate Dov'è L'ho perso Eh Penso dietro Eh L'ho preso io E io La scuola Si E qua guys Fatto Capito Non posso sperarlo No Poi dici perché lo odiamo Cazzo Poi dici perché lo odiamo Dio santissimo Credo che sta Credo che Come ultimo Poi dici perché odi Che ecco Eh Ma no Guarda me Ma che faccio Mi chiudo da solo Sono bravissimo Ragazzi Altro che tipico Ma guarda Ma D'accordissimo Ma hai visto come sari Da merda Bellissimo Bellissimo Stai provando La mia stessa sensazione Quindi Allora Nico Un euro Samuele Gortani Due euro Grazie per la risposta Prego bro Momar Doie Nuo abbonato E Valentino Munno Un euro Allora fatemi vedere Le sfide Allora ho fatto la quattro Devo fare la quinta Cerca dei forziari Nelle crocevia Del ciarpame Ok E poi colpisce Una palla da golf Nelle buche Allora Facciamo Facciamo così Facciamo crocevia Del ciarpame E le palle da golf Ok Quindi Quindi Sfida Palle Dov'era Quello delle sfide Snob No Devo fare Crocevia del ciarpame Ah Mi ricordo Crocevia del ciarpame Le casse Però la stella Quella segreta La trovi sopra Vabbè non gli serve Crocevia del ciarpame Ho capito Ecco non gli serve a lui Crocevia del ciarpame Non mi fate incazzare Quindi le palle da golf Beh oddio In giro ci stanno Però Aspetta sto cercando Sì Tutto qua Yeee Tutto qui Eh sì Stanno tutte là Stanno Sì A Borgo Bislacco Vai raga Un bel pollicione in su Tra l'altro Ricordarmi Permettetemi di ricordarvi che Sì Ho salutato il cazzo di cosa Anch'io Ehm Cicciochamer89 live show 15 settembre a Roma Quasi mille biglietti venduti 27 ottobre Cicciochamer89 live show A Lugano Eeeh Il mio libro di fortnite Barra Rivista Barra Tutorial Barra quel che cazzo che vi pare Trovate tutto Link in descrizione Qua sotto ragazzi Valentino Munno 2 euro E un euro Il cecchino di Metal Gear Era Sniper Wolf Bella bro Che me l'hai ricordato Dai E Mr. Jumpy Un euro Sì non era Sniper Wolf Eh Però mi sembra che era Sniper Wolf Allora ragazzi Dobbiamo conquistare questa zona Prima di fare le buche Ovviamente Io sono Mi sono lanciato di merda Eh Ma chi lo dici Sì ti prego Prendi quell'arma di merda Bravo Guarda se mi fai Non ci credo Non ci credo Allora Chat Chat Mi dite se Dei colpi Non sono totalmente Arrivati a uno Io ho sparato Ma non mi sembra Gli siano arrivati i colpi mai Ma proprio mai Chat Me lo dite Seriamente Non ho visto danni io Mi dite Poi magari sbaglio Però Mi sembra che non ho fatto danno Poi fatemi sapere Un colpo Io sono sicuro Che un colpo L'ho preso Ma non l'ho preso Proprio ragazzi Io Non so Ok Poi pieno qua È vero No a me non mi sembra Che siano arrivati mai Ragazzi eh Porca troia È grave È grave Come cosa Grave 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 Guarda questo Che cazzo C'aveva Ma non ci sta una cazzo Stanno passando qua Stanno passando qua Boh a me sembra che non sono entrati Poi va bene uguale Allora dobbiamo fare il giro Delle palle da gulf Ok No non ero lontano Non dite cazzate ragazzi Per favore Non dite cazzate Uh le bende anche Dove Madonna io non sono cagato sotto Stavo bevendo Ah perché è diventato straniero Tutto insieme Non ho capito io C'è delle bende quello Madonna ragazzi Ci metterò una frasca A prenderle Ma che cazzo No basta Ah ma basta che gli tiro La stecca in faccia Ma Ma questa Questa me sa che l'avevo fatta Possibile Allora questa l'ho fatta Aspetta aspetta Questo lo faccio Poi Ah è più vicino Ah ragazzi per il legno 225 Pozione da 50 Puoi metterti a un millimetro Ma Capito raga Cosa scusa Qua vende una pozione da 50 Per 2,25 di legno Molto interessante Perché andarono a chiamare Un altro elefante Eeeh Ma ho fatto Però non me le sta dando Scusate Possibile Le ho fatte queste C'è qualcosa che non va Eh Non le visi se le hai fatte o no Oh l'ho fatte Dice che non si fa così Ah dalla zona verde Devi fare buca Che significa Dalla zona verde Come si fa la sfida Scusate Eh non capisco Ragazzi Se mi dite come si fa Si fanno Dalla piazzola verde Qual è la piazzola verde? Ah questa qui Questa Dite Questa Questa è la piazzola verde Se non sbaglio No? Dai Ragazzi Metterò un botto A fare sta cazzo di cosa Passata Eh raga Quando crepo Me le da Oh No ragazzi Scusate ragazzi Però non me le da Basta Samuel Grazie mille Eh raga Io non sto capendo Scusate Raga Però Porca matò Già È difficile così eh Toglitele al cazzo Come sto a un cazzà Dio santissimo A me le facevano così Me le facevano Sì Dice Tutti insieme Ce l'ho fatta Scusa Pallina da golf Alla moda Eh beh io la palla da golf Uso ragazzi Questa ho Io facevo così Sì così facevamo Oh Però l'hai fatta No Oh E io le dovevo fare Ragazzi Vabbè Oh io le dovevo fare Ragazzi Io non l'ho fatta Questa che è baggata Tu falle però Dalle basi Palla da golf Da te Al green Su Più Gialle Dove sono le palline gialle Scusate Ragazzi Le palline gialle No le palline gialle ci sono Massimo Ma queste sono le palline gialle Guarda che strano eh Ma non c'è niente Ma No no E dice dalle Dalle palline gialle Vediamo se ci hanno ragione Ma guarda che strano eh Noi non l'abbiamo fatto così Eh Oh Eh Quasi Dio Cristo però Te la fermo io Guarda l'ammazzo Pikachu eh Quasi Ma io dico no Dio santissimo Il signore nostro Si è lotato nei cieli Ma che cazzo di schifo Di missioni possono darmi Oh C'è gente C'è gente Dietro Iure 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 Grazie Iure Grazie La battuta qui raga Eh Bene Che ecco Mi sa che è l'ultimo Ti è chiuso sotto Bravo dai dai Resta 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 Bro 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 Io c'ho la frattura Dai 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 Io resto Jure Ok io vado da solo Vai che stiamo lontanissimi Così prenderò slutto subito subito Jure dove cazzo sei Sarà un bordello rianimarci ve lo dico Metto la jump No c'ho la frattura Ah no Aspetta aspetta questo lasciamelo Questo ce la faccio Arrivo eh Vai vai Ragazzo del bug Io non ho capito Cioè Ok Ti è Mirko prendila tu questa va Ok Ok sarà un bug Dice che saranno buggate le sfide Eh ok vedo come lo cazzo lo sblocco io La cosa leggendaria Col cazzo Ma può essere sta partita Di me Mi servono tanto Ti servono dei materiali Ehm Ah diciamo che questa La mappa del tesoro Trovate nelle spiagge Non la possiamo più fare La puoi fare È da Montagnone Da Golfano Completa prova a tempo Forzieri nel crocevia Eh no È da sinistra Eh Il sogno in cui sono rivolte le teste di pietra Cerca nella direzione in cui sono rivolte le teste di pietra Ok Allora andiamo dai Venite da me Dai venite da me No ragazzi vado di te L'ho uccito quel pappacallo Sta facendo un casino che non ha senso È da solo Sì Venite ragazzi Però non ce la facciamo Sì Ragazzi Non ce la facciamo Eh Eh come cazzo ci arriviamo Non ci arriviamo Non ci arriviamo Non ce la fai Ah andiamo da quelli Andiamo da quelli Sparano Bello Non ci sta ancora rivolta Totalmente a caso Sparare Questo che voleva fare Questo è Dietro di me Mi fa Mi fa Mi fa Mi fa Mi fa No 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 Vabbè è uguale dai Dove cazzo è arrivato Questo Dove cazzo è arrivato Questo dietro Ah è un panino Davanti e dietro Hai jump qualcosa? No niente Non mi ha costruito Dio santissimo Sto sciopo Raga E va bene Qua panino Sono stramorto ragazzi E' andato due sopra Ce l'hai Eh che posso farci Porca trota Che botta Che cosa Se tu riesci Piano piano A venire qua da me Però Sto proprio sotto sotto Al terreno Sto bravo No nel terreno Arriva Bastardo Dai 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 Eh Allora 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 Vediamo un po' Fatto HD Federico Lazzati Grazie a tutti importanti Mr. Jump 1 euro Ok Samuele 1 euro Raman 2 ore 20 dopo Te la conta Darkstar 2 CHF Penso che quando mori Telecalcola Samuele Samuele 5 euro 2 euro Niccolò Marcello 5 euro e 48 Ciccio Per la sfida del buco Devi tirare dal T Di partenza Ovvero tra le palle gialle Ma con la corrispondente buca Comunque sei un grande X Fox 1 euro L'hanno cambiata Ecco Eh può essere Perché prima Fai Colpisce la palla In punti diversi Allora Sempre Cerca dei forzieri Nel crocivia del charpame Le buche E segui la mappa Del tesoro Ok Andiamo Prende sta stella Qua Andiamo al borgo Dai È uguale Dipende dove cazzo Ci buttiamo ragazzi Vediamo poi le donazioni Emanuele Attila Finiscila pure tu Ma non è che Attila Si vengono a pagare No Vincent Un euro Ma sul libro Ci stanno pure i consigli Per migliorare Sul battaglio reale Bellaci Un po' tutto Del sorbo Che coi gay 2 euro Herno 1 euro 17 I have the problem Ah capito Ima jason 1 euro Bellaci Ci ho 3 domande Se non ti dispiace Quanti anni hai Nel 3 Non porti più No 29 Non so Non ti vedo Quello che più conosciuto di youtube Tranne con joker Mi dispiace Comunque sei un grande Perché al momento Ma non è vero Poi che non collaboro Con altri youtuber Soulgamer C'è soulgamer Posso chiederti Se mi fai un piccolo sponsor In parte un cancone Ma no Emanuele Non ero Bella ciccia Se non ti dispiace Vorrei fare Aia Supergamer No 68 1 euro Xbox 1 euro Bella ci bella bro Alex Dove dove dobbiamo andare? Oh Oh al charpame Avevamo detto Oh alla Alla cosa Oh regà Quindi Eh Il charpame Qual è? Il charpame Emanuele Dai ti fai due sfide Eh andiamo là Emanuele È un po' lontano Un bel po' lontano Vai Apri e chiudi Apri e chiudi Antonio Ma non funziona Antonio Panaro 4,99 Sternini Bella raga Saluti sempre da Londra Bella X-Fox 2 euro Bella ci bella Salutare Ti stimo bro Bella zi Secondo me non funziona Poi boh Ehm Samuale Gortani Tu ero ti dovessi anche Un milione di euro Se ce ne avrebbero Ma tranquillo Ma se tu apri e chiudi Per chiudi Checco Fai la mia stessa Identica strada Cristian Vassalotti Nuo abbonato Grazie mille Raga Apri e chiudi Apri e chiudi Non funziona Ma era il testo Sì però andassò E io adesso ho aperto Io vi dico Non funziona Raga Cristian Vassalotti Nuo abbonato Grazie mille Poi ci riproviamo A fare quella roba Alla ragazzi Quindi raga Ehm Non aprite le casse No 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 Allora la cassa Scusa ma prima qua Io non avevo aperto Le casse Scusate ma Crucivete il charpame Non è questo E' questo Un tagnole Ah aspetta Allora non apritele Dov'è qua La Dove sono io Io sono di color viola Ok Non è La segreta Qua sopra È proprio qua Eh non avevo capito Sì 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 Ok Vado ad aprire le casse Di là eh Sì Tu apri di qua Checco Vai Qua sei 可以 Quelle Delle buche Mica l'ho capito Chat A me mi dispiace Ma non l'ho capito Hanno cambiato È vero Eh certo non vale più complicate Eh qua sette non lo so Se le trovo eh Passiamo a rassegna Qua ce n'è una Un'altra sta Davanti a te ce ne dovrebbe essere una Allora una sta qua Una sta dove mi trovo io Qua sopra Una di sette Finisco dopo domani Ma secondo me ce la fai 2 di 7 Mi trovo io pure ricorda GT sinto nuovo abbonato Grazie mille Quindi Aspetta prendo l'M4 blu Se ne trovate Ragazzi fermatevi davanti alle casse Se state qua Allora Qua ancora niente Allora l'ho vista quella Sol Arrivo io Ok Quindi 3 Oh Chuck Sol Prendilo Dov'è l'altra Beh comunque questa non è Non è difficile Mi sa anche Lama gigante No 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 Non credo Secondo me si No no Vabbè dai Qua niente Ho sbagliato Oh cassa Vabbè ne ho aperte 4 guys Vabbè dai Sì sì questa si fa E poi che dovevo fa Questa l'ho fatta C'è una cosa l'ho fatta E andrà qua E golf Completa prova a tempo E andiamo a golf Sì E poi le prova a tempo Raga Trovo ce n'è una qua Dove Al faccio C'è una qui davanti Andiamo 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 E che cazzo dobbiamo fare Che è difficilissima Eh perché È tutta per aria E aveva in materia Un botto Anche E' una 2.40 Vedi mi dicono Non lo dico Prendono anche a lama Valvano Ci proviamo Ehi non le vedo più Di questo Quanto lama Quasi Quanto materiale serve Eh un po' Dividerlo tu io Non lo d'accordo Prendo 200 Eh io ho 300 400 Ok Vai dai Allora Vediamo un po' Quindi? Eh devi prendere qualcosa di per aria Ah ok Vabbè basta Vabbè la prima Penso a costruire Sì 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 Eh 101 eh Hanno Giampato Allora Quindi dovrei prenderle tutte così Vediamo un po' E let's go Eh questa la sopra Salto Baffanculo Ok 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 Vai 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 Cazzo Due Ultime Non ho preso l'ultima raga Dio Dio santissimo Mi dobbiamo Che schifo Dov'è l'ultima raga? Non l'ho visto No No la mantendeva quello di ferro gigante Eeeh No quella vicino a 8 meter Che è quasi impossibile Per me è più facile Comunque non conviene Secondo me Farla adesso La cosa delle palline Ragazzi La facciamo poi No perché devo selezionare la pallina da golf Come emoticon Quindi quella Dove sono rivolte le teste di pietra Eeeh 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 Oh no E' qui Ah bravo In realtà si Ok Vabbè Eeeh Sì A meno che Qua ci stanno anche le fratture Ragazzi Si è proprio Ah è ritornata l'insegno Eeeh Eeeh Materiali ne ho pochissimi ragazzi C'è pochi Cassa Eh ho sentito per No Ho detto una cazzata No 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 Eeeh Shield Va Chi hai uno slurp Io Dammelo va Aspetta io uno shieldino Aspetta Vabbè Dai dai Non erano neanche accorto Bello Sempre piaciuto Andiamo Venite Quindi le palline le facciamo prossima volta Adesso ce ne andiamo un safe Proviamo ad andare a Borgobislac a sto punto Eeeh Ci troviamo Materiali ce ne ho pochissimi Allora sparano dai Divertimose Dentro al lago Sparano fuori lago Eh ma dunque Armi stiamo Eh Eh mo lo udiamo dai Hai visto Eccola qua Oh pallina Qua eeeh La pallina non posso prenderla Io la prendo io Ok Ah due pallina allora Dai pallina Dai Pallina 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 Vabbè Un soio Venite Dai 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 Venite Venite Andiamola Andiamola Dai Hai visto che abbiamo fatto rifornimento Carlo Bomber Sono forte Wow Grazie Eh C'abbiamo un'altra pallina Venite con me 105 Gente Quello è il nostro Lutt Ragazzi Qua qua Pieno 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 Sopra anche Ragazzi Sopra anche Sopra anche Mortaccio Che botta Che madonna Regà Mi ha dato una botta Chi è che c'ha La shaker shaker Io Shaker shaker Ho sbagliato strada Ma una domanda Ma dobbiamo stare tutti vicino Non per forza No Crea La fendita Ah Ehi so che è facile l'udare ragazzi Bì shaker shaker E te vai a mazzi Non Non so da dove però Eh da dietro Da dietro E la montagnola Devo prenderla anch'io Ok Comunque mi fa piacere ragazzi Siamo fissi a 20.000 Grazie mille Grazie 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 Veramente Nice Quindi Eh Allora Le buche Con prove a tempo E crocevia Mi sono rimaste Adesso Per il momento Queste mi da Quindi Prove a tempo Se le becchiamo Durante Eh ok Se no C'è sta una Qua ce ne sta una Vicino al fiume Dove Ok Andiamo È difficile Eh Che senso È difficile Per la scala Eh vabbè La scala Che non le fa Raga in realtà Dovremmo prendere Anche sto airdrop Se proprio Volemmo giocassola Per vincere Sta partita Ecco Fai quello E hai due Prendi un altro Giacomo Dazzi Due euro Grazie mille Raga Due dieci Ho visto Non costruire ora Ma hanno costruito Sta vicino a una roccia Ma è possibile Che l'ho fatta Questa No Sta là Preparati Scala e piano Scala e piano Ok Così mi fanno Mori subito Itch player Grazie mille Per l'abbonamento E Let's go Ragazzi Qualcuno ha la pompa Qua c'è una caramba Tu puoi prenderla Io posso prenderla Ok Te la lascio qua dentro Che vario Sì Hai piccolini Sono Servono Vedi Fatta fatta Era una cazzata Ragazzi Ho detto Che botta Quanto stai Due su cinque Tre su cinque Mi sembra due su cinque Avete preso Il R Che so Ho preso C'è una delta Plano Hai una delta Plano Sì Polo Giampine Colpi del pompa Tieni pompa Ok E volete colpi medi? No Para Para Le prossime Prova Prova a tempo Crocevia del Cerpame E la palla da golf Adesso queste Mi da Quale? Prova a tempo Non credo Prova a tempo E anche Riturio ritirato E anche Vicino al campo Da golf Qua dove ho pingato Adesso Giallo Qua Sempre Ah E vabbè Ragazzi Poi le facciamo Oh Guardala davanti i 15 Il loot Che c'è? Porca Che fai? Non ce vai? Ce vai sì C'è una muove forza Ragazzi Io Ho poco materiale Speriamo che questo Ce n'ha Che 500 Dezioni Fabrizio Manta Manta Mi sembra Sì Non ci sono più Gli sponsor Sono diventati Gli abbonati Che secondo me Sono anche più fighe Perché effettivamente È un abbonamento Guarda che bello Ma che bello È Natale Però Ciazzo ragazzi Come siete veloci E dei piccoli Io me Non lo so Vuoi una canta? Io Ma ne ho una In realtà Ti dico Sì Tex Gamer Grazie mille No ragazzi Prima in 6 E poi Mettiamo Ma non c'è Ma non c'è Chi ce l'ha? Sopra 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 Anzi Venite da me Da me No ma non Non hai capito Perché avevo lasciato Avevo messo jump Grazie Ragazzi Raga Anche l'ho preso Io ho maschino Io io Guardi Oh Non avete idea Della roba Che Non avete idea Voi Fugite sciocchi Nel mondo C'è Nessuno Una Ecco Sì No Poi niente Ragazzi 203 Madonna Se è pieno L'ho visto Fatemi tirare un medikit ragazzi Non vi posso dare una mano Stanno sotto di noi Rodetrip Samuele Cortani Non lo so neanche che cos'è Giovanni Dora 29 Bella zi Bella bro Se volete medini ho mille 600 No 250 Di bar Jure E i materiali ragazzi Non ne ho Eh Non ne ho nemmeno 200 di legno 300 di mattone Jure qualcosina Ok Madonna Il mattone che abbiamo Che cazzo Ci faccio le case Ce l'ho detto Qua c'è pure un falò Falò Prendi 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 Ma sono morti questi qua Sono morti quelle sinistre 4 contro 4 Noi non stiamo messi in male Beh guarda Stanno 120 ragazzi Io bombardo perché questo è un po' stupidino Vedi capirai Furashi Apportamento tattico E' stato divertente Comunque Dietro E' l'ultimo Ah la nuova skin Eeeh Mica ci ho fatto caso Ah mi sa che dicono il pomodoro Sbaglio Ah si il pomodoro Ma non è una nuova skin Devi fare la sfida Per sbloccare la nuova testa Esatto Wow Dai dai buono 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 Allora prima di tutto Armadietto Non palla da basket Ma la pallina quella bianca Giusto? Eeeh Eccola qua Mi salvo e esco Ok Quindi Samuel B 5 ore e 49 Dal T in buca devi farla In 50 verso 50 Vicino alla buca L'ho fatta così Normale e bugata Com'è Ha funzionato proprio C'è un abbraccio Allora mo le provo Poi al limite Sfide Quindi Eh vaffanculo gioco Ah dobbiamo riandare A prendere le casse Dove? Eeeh C'è fame Ah ho Ah ho Eh Vabbè Sta a diritto Mattia Valle 4 Benvenuto fra gli abbonati Vado a prendermi un attimo Da mangiare arrivo Vabbè poi andiamo a Lazy Links Borgobisillacotorocco Non è il Borgobisillacotorocco Si chiama Passatempi pomposi Ma si chiama? Passatempi pomposi Passatempi pomposi Si Si Ma apri la mappa e guarda Non lui c'ha l'inglese No perchè c'ha l'inglese Ah perchè vuole fare il nip Si vuole fare il programmer Guarda che ha anche un modo per apprendere l'inglese Si Ma va un po' Ma è vero Ma è vero Ma è vero Eh vabbè oh Guarda che giochi domani Giochi ieri Giochi altro ieri Impari tre parole Si 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 Eh 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 Che scherzi Lossi Mi nome è Zicchecco Vedere un libro Eh tomorrow is a beautiful day Dai Dai Onte oppure giorno Ci sono eh Il colore Stupido Dai Che cos'è quello viola? Per che cosa? Eh no per l'orologio Cioè qua Tu ho pingato c'è la sfida Eh ma quella è difficile Dobbiamo farla con la macchina Un'altro sta qua No ma in realtà con la macchina No non con la macchina Eh di macchina C'è una spiaggia snob C'è una Lì con la macchina Devi farlo E comunque Eh si Marti è un euro Grazie mille Infatti ho fatto L'altro Qualcuno si ferma qua ragazzi A montagnone Ah ah Ok vado io Rami Nuovo abbonato Grazie mille Ok vede sotto A una A due E tre Eh c'è gente sotto eh A meno uno Si Riesci a dargli una mano Jure Ok No sono due contro uno In momento Andando sopra Vedi centrale Eh si La dovremmo fare Non me la voglio fare Poi sta ruotando Adesso Che schifo M4 Vieni 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 Questo probabilmente Ci avrà il pompa Sicuro Io non ce l'ho il pompa Ce ne resta un altro A sinistra 70 Di trovare Questa che si sta qua Pompa infatti Immaginavo Sui troppo forte Caracca Umano Che potrebbe essere Blu Io lo so Solo Va Ludo Jure mi manca l'ultima Prova venire qua Magari punti Minchia se io ho rotta Adesso Questo c'è Lo scar leggendario Eh lo sapevo Niente Jure me ne manca una Vieni qua Era un full team No ma quello no Quello no bro Quella non In realtà è sul nome Digi Proviamoci Mi sembra di averne vista Una Una qua ce l'è Sono niti Si lasciala Lasciala Al limite Eh trovata 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 Vai Fatta Una quattro verde Niente Io riuscivo Sceldini per te Anch'io Per te è uguale Sei notizioso Dino un euro Giuseppe un euro Grazie mille Solo com'è Com'è Morto checco E altro Sei contento Qualcosa di brutto Nient'altro eh Che più nemico Avevano scar leggendario Senti io sto arrivando da te Dai Vieni Jure Sto arrivando Eccomi E beh Sono morti Sì sì Abbiamo uccisi Cioè Sì E quello son Sono morto Era tra i nemici Ok Ok Mi sembra Mi ha fatto Ragazzi Dua Dai Che cosa stai mangiando Mir E le lenticchie Con la salciccia Che l'ho mangiata a cena No no Però l'ho mangiata Infatti manco io Quindi Cerca forzieri Rifugio ritirato Non ce la facciamo Che sarebbe Rifugio ritirato Ah ok No non ce la facciamo Passatente Golf Le prove Le prove a tempo Qua Qua C'è C'è Quella Allora Prendiamo le fratture Tanto ce le abbiamo Dai Oh lama Guarda un po 120 Prendi Prendi frattura Andiamo a prenderlo Sì sì Sono abbastanza convinto Di non aver preso Niente Sono abbastanza convinto Sapete Ma guardo Perché dei mattoni Erano nascosti Vend Ah Vend Se avete colpi di pompa Nove Te ripeto Non ho preso armi C'è solo i piccoli I medi I piccoli Ti ho preso io Ok Andavo a 10 frame Io ho preso i piccoli E il legno Io forse il ferro Ebbè Abbastanza Raga Qua Ah Li mortacci Tua Qua cassa Eh Ebbene Ebbene Sono troppo forte Comunque Mi insegno Eh no Comunque L'utilità Venite qua Guarda Childini trovati Tu sei Lo dico Però Uh lancia cazzi Lo prendo Ebbene Venite 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 Dai 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 Ho sbagliato Dove vuoi andare Mirko Eh Non ne ho idea Stavo pensando Ah Sì È là A fare le cose Ok dai Ci sono Qua sotto Sol Vai sotto 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 Quindi Mi avete detto Ma scusa eh Da quelli gialli Eh Palline gialle Ok E io sapessi Quello sotto Allora Quindi da qua Mi avete detto No Vecchio Marpione Eh no ragazzi Guarda sto pure dal giallo Guarda un po' Non funziona ragazzi Mi sa che c'ha ragione il ragazzo Devo fare le 50 Verso 50 Non va Eh ragazzi Non va Perché qua è pieno Ah qua Eh Qua mi dice uno Magari Ma in realtà Quello è l'arrange Eh magari No ragazzi Eh Qua mi dice uno Ah adesso Vieni qua Ma dici che va A ordine Eh può essere pure Può essere C'ha ragione Cazzo Devi andare laggiù Vi tira Allora Vabbè Raga 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 Oh 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 Che cazzo è Oh Ma che cazzo è Oh Ti giuro su dio Mi sono cagato sotto Oh Raga Ma non hai capito Mi sono cagato in mano io Oh C'ho i brividi Ragazzi c'ho i brividi Ci credete No al cuore Mi palmi Oh 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 My god No ma io Ma io c'ho i brividi addosso Mi sono cagato sotto Oh Oh My god Infatti sentivo un rumore Ma che cazzo è No Allora Non hai capito Allora Non hai capito Io mi sono avvicinato qua E ho sentito questo rumore Ho detto che cazzo di cazzo c'è qua E poi ho guardato sopra E se No Guarda la frattura Imbecilli Eh ho capito Ma è caduto un fulmine Dalla frattura Dove Eh sì Dalla frattura è caduto un fulmine Ma perpendicolare Perpendicolare E quindi Più o meno Verso qua Mi sono cagato sotto Uuuu Ma laggiù Che cazzo è Ascolta Ah Eeeh L'ho fatta Ecco l'è giusta Una Sì è giusta Ho fatto Mo 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 Quelle tre Ha capito ragazzi Bisogna farle Numerate Ma dovete Che numero è questo Due Sì Ah vedo Mil con due Mo mo Andiamo a vedere ragazzi Tanto ci dobbiamo Da qua Vabbè Ma almeno La cosa figa Che l'abbiamo visto in diretta Sono proprio contento Due Questa sarà Io Guarda regà È stato pazzesco Non hai visto il fulmine tu però L'ho intravisto il fulmine L'ho intravisto E questo non me l'ha dato però Sol Perché vuole Forse fai un'altra bandierina Questa dove cazzo si fa Devi fare la buca a due Ah Diversa a buca Ma anche a tre Cacca puttana Ah Per la madonna Sì ciao Ma l'abbè fatta con quell'altra Prima Ma se andiamo a vedere Sta cosa Che sei contento Un attimo mo Eeeh No Ma Dio santissimo Comunque Mano quanto è più difficile È bellissimo Comunque è bellissimo Vieni po' Sol Sì Ma dai Non la poteva andare I mortacci tua Eh Sol Prendila Pieno 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 Quasi Vaffanculo Dammi una mano Sol Eh Vai vai che buono Buona è buona è buona No Dai Sol Puoi prendere Sta pallina Di merda Sol Che era mia Quella Sol Ah Andiamo dai Andiamo Andiamo a vedere Che cazzo è successo No come ormai Andiamo Andiamo Ma guarda un po' Ma bellissimo Ma chi cazzo se lo aspettava Guarda che roba Vai vai Yure Andiamo a morire Vai Passa sta visuale Vabbè ma tanto lo vediamo subito Vabbè ma tanto lo vediamo subito Guarda più o meno sta tipo qua Che cazzo è successo Già notizie su Google Però era imprevisto come evento Scusate Previsto Non ce lo vedevano dai dati Però lo possiamo È vero mi dicono di far vedere il replay Comunque sì Me ne frega un cazzo Vai Di far vedere Il replay Eh certo 13 minuti Dopo ho visto Mi Basta Non ce l'aspettava sta cosa Ma Soul Ma quanto è ripensato Aspetta soul Dai aspetta soul Dai 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 Non c'è niente qua Via 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 Non c'è niente 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 Eh sì Vabbè dai giocatene Andiamo Vedete il replay Yure C'hai colpito il lancerazzi Qualcuno ha colpito il lancerazzi No No Ragazzi mi deludete quando fate così No Dopo andiamo a Dopo andiamo a vedere il replay ragazzi Dopo vediamo il replay eh In diretta In diretta Certo bisogna capire Io pensavo fosse un terremoto No no Io ho detto Oh mio dio È la cassa Io ho detto È la cassa più potente Della mia vita Dico Adesso la prendo Divento miliardario Invece Ma non sai neanche dove stanno Che bombarde fa Spaccali Credo che ci sia Qualcun altro Comunque Oltre questo Dov'è il tizio Eccolo Che botta Ma è fortissimo Non mi segna Avete un valò? Sì Mettilo ma Avete colpito il lancerazzi? No la jumperina però Eh io non sei di jumper Puoi dire C'è un cecchino Bello grande là Andiamo Avun che fantastico ragazzi Dopo Ce lo andiamo a vedere Bello poi in diretta Capito C'ha detto Proprio un bucio De culo Sto contento I due french mall 3,41 Grazie mille Eh no Stavamo all'hab show A Milano Dopo facciamo Vediamo il coso ragazzi E' a Milano A Roma zio E' incazzato Eh no Milano Drogate de meno Sopra Ovest Full team Ah giusto Scusate Raga questi Non riusciamo a farceli Mi spacco il muro Sparate Ok Aspetta Aspetta che arriva il razzo Vai Devi avere un buon tempo qua Non li vedo più il razzo Eh no Spara Raga A nostra sinistra 195 Andiamo 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 ragazzi Dai Venite Venite Io ho colpi di cecchino Se ti servono 2,90 Ok Cazzo Quanto ci vuoi sparare Stanno qua ragazzi Dovevi venire con me Dovevamo essere bravissimi Cosa siamo? Siamo già morti? Eh praticamente Ma Non ne ho idea Pensavo Che pensavo Vai a rinimare subito lui Vai 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 Perfetto È morto Vai vai Rianima Rianima tranquillo Eh ma c'è un tragegine Eh lo so Che devo fare? No bro Io non sto ucciso Lo giuro La situa è un po' Bislacca Mi sparano anche Da dietro C'è un giocidine C'è un medico Raga Visti Non è che sono Finiti Puttana Di più Allora Sif è a destra nostra Ragazzi Fatevi i cazzi vostri Dietro Aia Che boss Ah mi vanno Fa casca sotto Ma con che cazzo Sta sparando Non capisco Ma che cazzo Che è Infinita Hai cambiato Due Ah Buon problema Vabbè Giamberina Andiamo via Non capisco Che cazzo Stiano facendo Colpito Vai Affanculo Più o meno Sono andati sotto La roba Principale Dio Non abbiamo Già Vai 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 Eh Mano Fatto Casca sotto Rirompi Raga Se abbiamo Un air Troppo a sinistra Prova a prenderlo Eh raga Un attimo Zio Provaci Fatto Oh raga Anche a nord est C'è gente Io jumpo eh Qua son cazzi Raga Raga son cazzi Sono cazzi Enormi Che brutta roba Raga No raga È un panino Della madonna Ragazzi Siamo sfortunatissimi Io mi accontenterete Qua per adesso Perché gli altri Stanno da sopra Ehm Proviamo Ti sono Ti lascio la delta plano Sì Capito Sì Materiali Bro 300 Ok Benissimo Stiamo nella merda Anche a casa stanno Oddio Dobbiamo pushare Ioremi dai qualche colpo del cecchino Tieni 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 colpo Sì 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 Ce n'hai 90 Lo so che ce n'hai 90 Li ho usati Io ne ho 84 E non ho il cecchino io Quindi Poi cosa posso fare Oh la 7 è da noi E bucio di culo Bravo Eh ma occhio Anche sopra ce l'abbiamo Ragazzi Sì Quella cassa in mezzo all'arco Come sembra Non è tanto in questo momento Ma tu sei coperto Dall'albero qua Se faccio una cosa E invece si sono caduti Raga così me la rischio troppo Mi sto fermo io Mi sto fermo Infatti ce l'ho a fare Io sto a fare Sotto di noi Mettete qualche trappola Ce l'avete? No Tra la giambe Non credo che No no ma Jure verso 300 Non ce n'ho più Eh vabbè Andate Il cazzo Mi fa fa Scusa Sì sì Spara su tu madre Spara mai Guarda dove è di Jure Headshot uno Uno ho fatto headshot Uno posso parlare dell'acqua Ok No Dobbiamo separarti Non lame l'acqua 12 secondi ragazzi Occhio a 300 Che arrivano eh Resta Non dobbiamo farci abbattere Sto alessandro Sto alessandro Ho i cildini Ti vedo subito Se non c'hanno un cazzo Questi Merda Uno ha giampato Lo sta scendendo Sì C'è un lame in mezzo all'acqua Eh ben capito Se l'abbia visto tutti eh Raga Arrivano Ce l'abbiamo a est Jure Headshot Questi qua Abbattuti due L'ho fatto con l'acqua uno Ma che cazzo Non sono dove Ve lo ripeto Due l'ho abbattuti eh C'è Ce la puoi fare Finiti i materiali Che sec di merda Sono rimasti in due Però che palle Che schifo di vittoria C'è nel senso Fichissima Però A quello che son montato sul gruppone Me lo son mozzicato Cazzo E qua diciamo che Ciccio Ho risolto un po' La situazione qua Fai a vedere il cerebrale Ma si può vedere Cioè io che son morto Non so Si Perché tu vedi la mia No guarda Trovai l'internet Eh Ah non te Canale Canale no Beh oddio canale Diciamo di no Però Il due Eframe Andrea Cavallari Chiedere bastardone Sì mi due Era Cerciccio Tim Se non è buono È morto Lo so Federic Allora Carriera Replay Replay Lo vediamo Lo vediamo Qua È un po' Prima Dieci minuti Eh a che minuto Mi vorrei dire Quando stavo da giocare Con le palle Io non capisco Perché ogni volta Mi cambia personaggio GCC Ah non bobi indietro Ecco Lazy Lynx Ecco Squat Minuto sette Non so Aspetta Drone libero Adesso Diamo sapere Ah ma già S'era aperta Un po' La frattura Mi sa Guarda Già Era mezza notta Sì è vero Sì è vero Sì Sì è vero Sistema aperto Guarda Che figo Però quando succedono In live Queste cose Io ho messo per qua Ce lo sto guardando Ecco Eccolo Eccolo Lo vedo Come tiro su sto cazzo Di drone Sette Sette Cinquanta Quaranta No io non so come alzare il drone Con QE Ah QE Eh ragazzi QE per voi Per me è tutta altra roba Ah ma proprio lontanissimo A palmetto Porca vacca Porca vacca È veramente lontano Ah sì Vabbè Non mi si alza il drone Ah l'altezza Eccola RT Dio Cristo Più che Sì comunque è vero Se stava già aprendo Vedi Non è scintito Oh A 7.53 Sto andando eh Siamo già Che bot Che vu prese Piano piano Mi sa che non possiamo Cosa Sto andando Ma ragazzi C'è un limite a un certo punto Bello Proprio un fulmine Monstruoso Guarda qua Sì C'è un limite C'è un limite No è vero Una cagata No Ok Che ha detto Perché c'era un cerchio nero Infatti sì Lo vedo Pure io lo pensavo Palmetto Metterò un'ora Però Figa Vediamo eh Che cosa ha colpito Troppo curioso Sto anche per uno Ma io sto per uno Quindi mi avete detto Dove A Palmetto E' a Palmetto Eccolo E' nel deserto Booo Fammi vedere qua Eh bravo Ho già stato Come cacchio fa Sto ragione Quindi mi avete detto A che numero era 740 Vediamo un po' Beh Non ho visto Non ho visto Non ho visto Guarda che sono quasi arrivato Madonna quanto ci vuole In parto Vado a guardarmi La live di Mirko Non so come Mi voglio esculare Non so Eccolo Comincio a sentire umore Sì ma Vicente fighissimo Ho messo Mette rallentatore Oh Eh no E' laggiù E' laggiù Ah Palmetto No 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 Eh Sta Vicino Una carota Una montagna Credo Sono abbastanza sicuro Tipo beccato qua E' tipo la Coca-Cola Cioè E perché Mirko Con B riesce ad andare più veloce Cosa cazzo Ma cos'è Mi sa che è spawnato una cosa Con sto fulmine Sapete Occhio Ah eccolo Vedi Eccolo Eccolo Oh No Semplicemente un fulmine Su una pietra Così Così Infatti dice Ah ok Proprio così a random Ah Ma se ci sei sotto Fa danno Io sto qua Penso proprio te Sì Penso Diventi Thanos Poi non parte sempre Vabbè Intorno Una roccia Vediamo se ci fanno La partita Ma dubito No non credo Non penso proprio Eccolo Va 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 Che botta Porca mignotto Regà Bella però Porca mignotto Odino Peccato che stava arrivando La cassa è la più Bella del mondo Mamma mia che botta Andiamo dai Che dobbiamo fa Robba Federic Un euro Grazie mille Come basta Ah beh ok Vabbè Iure Se vuoi Io continuo un po Cioè per forza Bella Imageso Non lo so Infox Bella c'è un euro E super Germano Un euro Ok perfetto Guarda guarda Eccolo Quando cazzo vuoi Ah si Scusa arrivo Non siamo gli unici Stanno guardando il relay Arrivo Perché è buono Alla che gira È bella ragazzi Saluto io Marte del getto Nuo abbonato La semilla E francis roma Due euro Ciccio Se usciranno Lo battono Lo farei Yes Eh la città È superoci La del tè Mi pare Che bottolo Sta uscendo La traduzione In italiano Fatta da Sempre da Lo stesso Tem E bottolo È una bella Botta Sì 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 Io già Stavo a pensare Saremo da Ecco un secondo Nove L'altra volta Dove devi andare Quindi Oddio In realtà Dovremmo andare O a passatempi Composi O a Sette Casse A rifugio Ritirato Ecco Arrivo Arrivo Che facciamo Casse o Passatempi Ammassate la gente Ma non aprite Ma non aprite le casse Dunque ragazzi Sappiate che io sto live Finché non finisco le missioni Ah è vero Da giornale vittoria Stiamo a 5 È vero Dopo ricordatemelo Cosa C'è gente Ragazzi Occhio Ah c'è pure Una prova a tempo C'è Sì C'è gente Difendete le casse Con tutti i vostri Difendetela Non aprite le casse Bastardone Allora Una aperta Poi Vieni qua Mi eh Guarda dove mi trovo Un attimo bro Ok Una a terra Scusa Ho difesa Mi Bene Due Poi Qua Qua da me Io sono Rosso Vado un attimo da Vado da Da checco Vado da sol Arrivo sol E io difendo la torre Sol io vedo proiettili A caso Ah ma non hai niente Sol Fatto danno Sol Bianco Sol Non so dov'è Ha battuto Nice Prendo la cassa Vieni vieni Mirko Cassa presa No 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 Arriva da me Arrivo 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 Non è in culeppere Ma in realtà mi sa che sta restando il suo alleato Parca parca Arrivo 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 Te lo trovi in bocca Te lo trovi in bocca È bianco Ancora sta qua la cassa Intatto Regà Uno ci è rimasto malissimo Credo Poi non lo so Qua Sol Vieni qua Prenditi quella Pensavo morisse Dove? Qua qua Sopra dove? Mè Mè Ok Sto a 4 Tieni Checco Aspetta No no Tieni No no tieni Ah ok grazie Sono 4 raga Ui oi 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 Andre 97 Tu dai c'è quanto forte Resto 2 Dove porti Ma scherzi Per forza Salutare Loremanto Diego Gallo E dire patta banana Ok grazie Ce ne saranno altre? Qua cassa Arrivo Quanto stai? 4 5 Qua no purtroppo Ci sono due Ne manca Parca miseria Arrivo Sol eh La torre l'hai vista? No Eh vado a vedere io Che poi devo fare pure la sfida a tempo Ve li ricordate com'è questa? Sì sì È facilissimo Ok Se non mi sbaglio La vedesta torre Ripeto Sto a 5 di 7 Ok Non sono due Qua sopra Sulla torre ci potrebbe stare Niente torre Fottuta La cassa Ok Eh niente Hanno per te le casse qua Eh vabbè 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 Faccio la cosa Pè 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 Ok È stato molto emozionante più che altro per il mio Pè 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 Sì Ti do la giamba tieni Pè Pè E niente qua ci dobbiamo ritornare Eh passatempi pomposi pure niente c'è saltata Ehm Compre Le prove a tempo ragazzi Bah Possiamo fare adesso Un po' qua È pure in safe Andiamo Quante tre mancano due o una? Due mi sembra Allora ti manca Reterno Quale ha presa? Forse commercio Ehm No No E allora la c'è un'altra Quindi qua Però è meglio che andiamo prima al lago Al fiume più che altro Quella è difficilissima se non abbiamo un'auto io non riesco a farla eh Ma no ci riesci anche senza Oh io non c'è No Andiamo a corso commercio No no andiamo a corso commercio No quella è difficile io ci ho provato non E non ha fatto senso C'è uno a paradiso A palmetto paradisiaco A corso a corso Andiamo a corso Sì sì Andiamo a corso Andiamo a corso Eh lontanissimo Sì lontano Andre 997 Un euro ragazzi mille Eh ma se costruisci là Sì sì Ragazzi no da noi sinistra guarda ci stanno a mirare questi bastardi Schifosi Orca balorca Come li famo questi? Eh non li fai Non li fai Non li famo raga No Venite con me venite con me Venite con me per fuori Venite con me sì venite con me Eh mi fremmo la gassola Vieni vieni Sol vieni Merde c'è già No non potevamo fare niente là ragazzi No no Sì spara da vostra madre Sì spara da vostra madre Venite venite Poi Il peccato è che gli ho tirato una semitex proprio dentro Sono saltati tutti i due dei lati Sono molto bello Porca vacca Rega tanto mo ci seguono Ovvio Eh Eh io non c'ho materiali Riti E ora è un pompa Un pompa trovata Fatti al volo sta missione Eh Eh State attenti a quelli dietro per favore Eh eh Sì Sofia grazie mille Ba Pa Pa Ti pa Pa Ti pa Ti pa P Ti pa Ti pa Si si l'ho visto, l'ho visto E arrivano, arrivano. Fatto eh, me ne manca l'ultima. Dai, dai, dai. Che trenta medi eh, ti arrivano in bocca solo eh. Sotto sta collina, eccoli qua. Ok, mi sembra che avevano i cecchini. No, pochissimi. Tieni, Chiecco, tieni, ti do qualcosa, tieni. Io ho cinque colpi di bomba e settanta di me. Non ce la facciamo, stiamo messo nel dirone. Sì, molto, vai. O noi ce la facciamo fin di andare via? Attaccate un po'. Abbattuto uno. Uno, ho fatto headshot. Raga da me. Da me, da me, da me, da me, da me, da me ragazzi. Vai giù, vai giù. Nooo, porca. Che deva. Vabbè, continuate, continuate. Prega il cazzo. Prega il cazzo. Come vuoi, per me potevi pure continuarla. Dai, dai, io qui. Dai, va bene. Voglio che finisci le missioni. Va bene, va bene. Però non era male. Chiudi, chiudi. Oh, bella, vieni, vieni. No, non te la faccio vedere qualcuna che ti piace. Vabbè, solo, non fa niente. Aspetta, dove è? Almeno finisce le missioni. Bella a tutti. Hola. A parte che ho sbloccato la testa quella nuova del posto. Hola. Ciao, chi c'è? Hola. Ciao, chi c'è? Ciao, chi c'è? Ma vedi, annaffanculo te. Ah, dure. Due euro. Saluta la Veronica spagnola che è la mia preferita. Bella. Ma, solo, che fai? Ce la fai a giocare? Sì, sì. Ah, ok, dai, andiamo. Ah, devo aggiungere una vittoria. Ah, vedete? No. Portiamo la qualità nella live. Perfetto, mancava. Checco, se magari metti pronto. Dio santissimo. Checco, ho bisogno di serlo sempre. Ah. No, non è Sodin. No, no, no. Lui è Maurizio. Ergino66. Benvenuto per gli abbonati. Grazie mille. Hai visto? Allora. Ergino. Ah. Ah. Finalmente, qualità. Ah. Ah. Ah, rifugio ritirato nuovamente, ragazzi. Che famo? Ragazzi, coda. Facciamo la coda. Eh, ma non ci cagano a noi. Cioè, proviamoci, ma non ci cagano. Ah, a me piace questo pomodoro. Beh, venite, dai. Coda dietro a me. Dai, proviamo, ma. No, non ci si cagano. No, no, non ci si cagano. Fidati. State stretti, stretti. Ti trovi al mio culo? Sì. Vai. Perché non troviamo mai i team belli, capito? Eh, vedi, non ci cagano. No, vedi, eh. Ah, uno sta dietro a noi. Però ci spara nel culo. Vedi, dai. Ma siete delle merde. Vedi. Vedi. Anime boy. Nuovo abbonato. Grazie mille. Elexage. Due euro. La forza della fatta banana sia con te, Carlo Giusa. Siamo l'autista, ovviamente. No, te notti a tutti, ragazzi. Sempre. Se non ringrazio a te, sto sempre io. Ah, e mi manca solo una prova a tempo, eh. Poi ci concentriamo sulle buche. C'è gente, eh. Io vado alla casa dove stavo prima mi, che dicevo che c'è pure la cassa. Oh, ho chiuso uno da te. No, da me. Oddio. Dove ero prima Mirko c'è una cassa di nuovo, eh. Non c'è cassa qua. Neanche, anzi, da me sì. Porco cane. No, non è possibile però, che sfighe. Tanto te ne mancano due, vero? Una. E allora... E allora... Oddio, sonni di gloria. Con culo... Per proteggerti la cassa. Quale cassa, amico? Ti chiesti di proteggerti la cassa? No. Allora. Andiamo a cercare scuse, tu. Solo io uno l'ho fatto. C'è una cassa da te? No. Eh vaffanculo a voi, vaffanculo. Ce n'è una a sinistra, eh. Abbattuto. Ah, è quello che m'ho acceso. C'era questo, m'ho acceso. Quanta vita. Quanta vita. Quanta vita, ma dove corri? Dove? Vai. Fa le bende se vuoi. Vediamo l'iniziarla oppure... Tieni. Poi il gatto. Ed io la colpe. No, ma più che altro non so se trovo la cassa qua. Secondo me era perché mi buttavo, mi eri animale e poi mi curavo. Dai, non mi dite che non trovo l'ultima cassa perché poi... Mi incasso. Mi incasso? Eh sì, mi incasso. Dai, qua ti pare che non c'è. Eccola! Sol, se vuoi... Eh... Le buche da golf, la. Basta, poi? No, un'altra. Vieni qua, Sol. Dobbiamo provarci, ok. Sì, sì, mo' ci andiamo le buche. Andiamo le buche, Sol. E' un po' che mo' Tommaso italiano, 329. Oh, mamma mia, che off... Che offenzona che mi ha attirato. Mamma mia! Ah! Carlo Sposato. Un euro, assiemele. Nunzio Lozito. Due euro. Bella cipo che stiamo dai, più bella, bro. Ah, Tommaso, ma non è troppo tardi per te, non dovresti andare a Ninna? Sì, ma uno che scrive così... Secondo me tutti sti poster che hanno messo poi saranno da imbrattare un'altra volta. Che senso? Questi qua. Ah, ok. Secondo me, eh. Pratta i poster del film. Eh, magari domani. Sì, sì, ma sicuramente. Uh, prende queste le prendo, mi servono. Prendi, prendi. Uh, una cazzo davanti a te. Eh, lo so. Eh, ma... Cioco del cazzo! Urca, balorca. Ah, questo prendo io. Qua è pieno di funghi, eh. Bella ciccio, sono in grande. Due euro e ventinove da Carlo. Grazie mille. Dobbiamo fare la terza buca. Notte, notte a chi va. Un bel like a chi è arrivato mo'. Non si è lo zito. Due euro, farai un live show nel Veneto. Lo spero. Lo spero, lo spero, lo spero. Non sarà facile andare là comunque, eh. Questo sarà il fatto a deciderlo. Dici, eh. Quanti medi hai? 12. Ma che dici? Perfetto. Eh, proprio condivisione al massimo. Uh, che frame lag, madonna. Uh, bene. Ancora? Oddio. Vado a 10 frame. No, no, ma calcola, sono andato io tipo a due frame. Quindi, pensa te, cioè... E ora ci dobbiamo stare così fino alla prossima settimana. Pensa durante un fight. Quando sei costruito. Non mi sembra che succede durante i fight, però... Aspetta, pensa. Però... Sempre se non c'è nessuno, le buche. Poi, che... Mamma mia, che palle ste missioni. Guarda, in teoria adesso le hanno... Quanti fatte le buche. Però se ci sta una frattura possiamo prenderla. Io c'ho questa, ma io questa non riesco a farla. Già ce l'ho provato. Questa qua non riesco a farla solo. Cioè, perdo solo tempo. Questa no. Lo stocchi tu? Posso prenderlo, sì. Ho pochissimi colpi per pompa io. Io ho 16, contando quello in carica. Io ho 7, contando quello in carica. Tieni. Beh, già. Dobbiamo trovare la 3. Eh, la 3 sta all'altra parte. Guarda, la 3 must be in safe. C'è nella... Eh, no, no, in 7, in safe. Questa è la 8. Qua hanno fai dato, quindi non credo che torneranno. Beh. Credo che non c'è un Giorgino che campere. Allora, la 3. Quello che prima non era... Non era necessario farle da... Annumerate. Eh, immagino. Quindi. Guardi qua. Sì. Sì. Quindi la 3... E devi farla in diverse, quindi... Sì. Non può essere vicino, ma può essere lontano. Eh, quella laggiù. E... Aaaaaaah! No, è sabbia. Ti hai ribazzato. No, l'ho fatta, l'ho fatta, l'ho fatta. Incredibile. L'ho fatta? Sì. Ok. Sono stato bravissimo. Quindi la 3... La 4 è quella davanti. Sì. Sono stato... Bravissimo. Diego Pardi. 5 euro a 6.000. Simone Di Giorgi. 1 euro. No, ragazzi, le dovete fare in ordine. Prima siamo stati 2 ore. E adesso le dovete fare in ordine. Ehm... Quale? Oh, cazzo. Dai, però. Ragazzi, fatemi fare le cose. Ma non era necessario. Avviciniamoci, dai. Uno sta a sinistra, eh. Eh... Che vogliamo fare? Mi sembra che sono un 2. Uno a sinistra, sì. Dov'è quello a sinistra? Eh... Passa dietro l'edificio, nord-est. Quello la zoom un po' con quel cazzo de' coda. Provare un'altra scala davanti, io. Vuoi provare a pushar? Poi facciamo questo qua davanti a noi, perché quello la sicuramente sta a fare una posizione da sinistra in vantaggio. Eh, sicuramente. E poi dobbiamo muoverci perché la 7 poco parte. Mi ha messo? Mi sta a buttare qualcosa. Ma... È pirla? No, l'ho fatto io. Senti, lo attacchiamo, per favore? Che mi ha fatto perdere... Si, attacchiamolo. ...la pazienza. Ah, vedi? Ce ne vedi? Dov'è lo stronzo? Dov'è lo stronzo? Ehm... Basta dentro l'edificio, Mirko. C'è un garage. Vaffanculo, va. No, l'ho visto. Davanti a noi Nord. Perf... Ma non ho dovuto far perdere tempo. Basta. No. Che nervi. Che nervi, che nervi, Sol. Che nervi. Che nervi, Sol. Vaffanculo, vaffanculo. Vaffanculo. Vabbè, la prova a tempo. Vaffanculo. Vuoi un dipitone? Eh. Beh. Devi di sta birra, va. Ah, sono Toro, vaffanculo. Quanto tempo ci hanno fatto perdere questi? C'è... Solo tempo. Solo tempo. Solo tempo. L'hanno presa sta cassa? E l'hanno presa. Dio santissimo. Falle. Però forse riesci a prendere... La riesci a prendere questa mia? Ma no, ma se non sono a tempo. Ah, in ordine. Ah. Posso provare? Magari non sono veramente in ordine. Però... Non ho in ordine. Però da prima a farlo. Ci provo, dai. Ci provo. Questa è l'ultima, proprio. Questa è la 6. Facciamo e questa è la 6. Oddio. Azzatia! 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 Eh, non ne ho la più parete. Oh, l'ho fatto. Ah, ok. Non sono... Ok. Eh... Mi serve... L'ultima. Sì. Dai, i cosi gialli. Eh, ma non so dov'è il coso giallo. Vado a morire. Ma chi ci lo fa fa? Chi ci lo fa fa? Dai, ne devo fare una. Vabbè. Almeno abbiamo capito come si fanno. Quindi devo fare una prova a tempo e una di quelle là. La prova a tempo dov'è? Eh... No, ragazzi. Adesso non potete più farle. Attaccate alle bandiere. Ma dovete farlo da... Vero, 23. Un botto. Aia. Safe competitiva. Qui è partita competitiva. Davanti a noi, li vedi? Ci hanno visto, eh? Preso. Oh, madonna mia. Dobbiamo attaccarli, eh? Eh. Chi è? Eh, da tasti. Preso. Lo stai arrestando ormai. Eh, guarda arrestato. Ah, l'ha arrestato, l'ha arrestato. Diciamo che due su quattro sono danneggiati adesso. Ero un bel colpo là. Io non ho materiale. Colpo tu. Colpo io. E quello non ho arrestato. È lì là. Eh, lo so. Sperando che sono contro, ma ho dubito tantissimo. No, no, no. Sono insieme, sono insieme. Ecco. Sono molto... Eh, che colpo in testa che ho preso. Siamo morti, Sol. Che devi fare? Sol, se vuoi scappa. Vabbè. No. Sol, esci. Prova a spaccargli la faccia. Vabbè. 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 No, no, no. Ti manco una pallina, dai. No? Arrivo. Ho fatto fino al 3. Vabbè. 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 E poi mi ha ancora una bella giocare quello. Uno si è scappato a sinistra, fatti capì. Qui ha detto, ciao ciao. Mi piace Sol? No. Ma che bello. Mirko, facciamolo adesso, dai. Ma non c'è Mirko. Dai. Vabbè. Ma oggi sono persone più a deboli. Allora, sta qua Mirko proprio a tempo. Conviene qua la pallina secondo me. Eh, fai siena... ... Questa l'hai fatta, scusa. Non l'ho visto, non penso di nuovo. No. Non la fa pure. Eh allora... Con la macchina Prendiamo la macchina E uno di voi guida Eh ok Fatto comunque qua Cioè si trova una macchina Sperando che non la prendano loro E insieme Sto mangiando un pezzetto di barretta protega ragazzi Alla fine quello che fa Vittorio Reale È l'autista del fulman È l'ultimo arrivato Poi c'è un altro montito Non si è tramontito Ah vuole un altro power L'ultimo power Dovrebbe essere free eh No c'è qualcuno È vero c'è Sì sì C'è 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 Full team Full team Cazzo Ho fatto un'altra sfida raga C'è una sotto eh Così a cavolo Ah mi sa che hai fatto Un'altra segreta Ah ah Raga occhio da me è pieno eh Oh bellezza eh Qua dentro Davanti Un altro Porti tutti Adesso ci possiamo dare a Uh qua c'abbiamo la fattura portatile Buona Ragazzi nel parcheggio c'è una slurp Andatela a prendere Parcheggio Parcheggio Ok 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 Allora prendiamo sta benedetta macchina Vediamo Quindi ipoteticamente devo andare sull'ultima gialla Che è là E farmi questa qua Ecco vai al parcheggio Sì serve Sì vai al parcheggio T'ho detto Vai vai Ok ok Eh almeno ne manca Mod se volete andare andate eh Ce lo sapete quello che penso io mod All'imito me lo dite Non è un problema Qua qua da me Fatta? Non me l'ha data Eh allora devi farti con l'altro Non me l'ha data proprio Che vuol dire che in una partita devi fare 5 buche No 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 Non ti agitare Stai calmo Ma io nel frattempo prendo la macchinina eh Ma ce ne stanno qua 300 t'ho detto Eh infatti ecco No Questa è buche Yes Eh non me l'ha Non me l'ha Eh? Devi farlo in ordine Ma è strano allora Ok che ti devo dire Allora facciamo in ordine Questa è un'altra macchina E se sono numerate le bandierine E non le postazioni Nel senso Questa? Eh ragazzi Non me l'ha data Quarta buca lo devi fare Infatti Anzi terzo Mi sono Porto dalla quarta buca Devi fare quella su Mirko Quella Ovest Aspetta La 6 l'avevamo fatta Sì La 6 sì Secondo me devo fare la 7 Ma no l'hai fatta la 7 L'hai fatta la 7 Ma ragazzi Prova il tempo Parla da golf Eh ragazzi Non l'ho fatta Magari la 7 è quella là Provavaci dai Non le ho fatte ragazzi Ah perché devi fare 7 7 Vedi sono numerate le bandierine Eh probabilmente sì Ma la gente non lo Ecco fatto Avete visto chat Siete contenti Ah Devo lutare ragazzi Non abbiamo materiale Siete contenti Sì è finito Sì No devo fare Prova a tempo Chat non è che avete sempre sempre ragione Sì le buche sì Cioè non è che avete sempre ragione chat Ogni tanto Hanno cambiato ok Eh Adesso le buche numerate Sembramo che siamo deficienti Porca mignotta Andiamo Mirko Vai 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 Che bello che ti trovo Allo centro Siete vinto Bello quello Avete un po' di materiale Sì io C'è un po' di legno Dai dobbiamo andare a fare sta cazzo Prova a tempo Che tipo difficilissima Non lo so Che co Lanciala Così fai la costruzione Che poi ci dobbiamo andare Lanciala Lanciala Che co Che cazzo fai Vai alla prova a tempo Deficiente Lanciala Prova a tempo Dio Madonna Lanciala La posso Hai parlato Ah sì Dai poi ci andiamo con la macchina Dicevo Cazzo Un altro Non gliela È impossibile Perché dobbiamo Partire da qua Poi andiamo qua Facciamo così Ah bru Ci ho provato Cogliore 200 volte No Io non ci sono riuscito Cogliore Non ce l'abbai fatto Scusa Anche tu C'hai ragione Ma che arriva Al 100 Ma che Pa 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 Poi c'è uno Checco non gliela faccio Checco non è effattibile Checco non è effattibile Allora, facciamo così, aspetta Sì, 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 sì Non mi devi guidare tu Eh, non posso Eh, io non so dove cavolo stanno le cose Ti porto a Fambrodo Vieni qua con me, vieni qua con me Allora, da questo punto qua Da qui Dobbiamo andare qua E poi dritto qua Ok Ma vedi che è impossibile, tu rimani là Poi devi fare tipo Devi andare tipo Da ste parti, tipo qua E poi punti qua E poi punti qua No, no, non gliela fosso, lo sai che ho il pad Becille Anzi, quella la prendo, va, quella macchina là Sì Oh, cazzo Adesso sì Con la macchina sì Con il resto non la facevo Raga, ho fatto tutto Sì, giochiamo Ok Dagli, 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 dagli Sì, no, raga, la macchina per forza Non c'ha senso Comunque, raga, sto posto è di una bellezza Eccoli 105 Rimortacci tua Rimortacci tua Sì, come al solito, raga, un panino Non ce voglio, crede No, raga, non ce voglio, crede E' a terra Dobbiamo andare da checco Ce la faccio, ce la faccio da so C'è la verde checco Eh no, dobbiamo una squadra, dobbiamo giocare due squadra, non c'è un cazzo da fare Oh, c'era giù Io posso vendere lì Occhio, eh, li vedete, eh, 300 Sì, sì Dio però, sti cazzo di panini, madonna Ok, tanto, non vanto Ultima lancia Ma che c'ho più team, what the fuck Che cazzo, non so che codo, sai Guarda questo, che cazzo sta a fare quello Uno, eh, vabbè, 90 Dietro, dietro Quello è white, quello è white Ragazzi, possiamo attaccare, secondo me Ragazzi, dietro, dietro Eh, Dio, la madre Venite con me, venite con me, venite con me Dai, via, 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 da checco, via, da checco, via, da checco Vai, qua, 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 vai, 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 vai Vaffanculo a tutti Venite con me, venite con me Abbattuto uno a te Abbattuto uno a te Ci sto, checco, eh Ci sto, checco, eh Mortacci, loro, guarda È pieno, regà Eh, mo, mo, si, li fammo tutti Che cazzo dobbiamo fa? Ando davanti, eh Dobbiamo gioca così? Giochiamo così? Che cazzo devo fa? Mamma mia Questo è lo che arrivano da dietro Bravo Bravissimo Questa è stata bravissima Dove restarlo qui? Eh Provaci Un è white Un è white Dai che te lo Ce la fate, ce la fate Oh, eh, vabbè, ho voluto troppo, regà Ci ho provato Quello da voi è white, eh Checco, da te è white uno, eh Sol Da noi, checco Da noi, checco Da noi, checco Da noi, checco Sol Qua Da noi, da noi, da noi, checco Non ci abbiamo tempo Rimani sopra, checco Rimani sopra Rimani sopra Mamma mia Oh, esagerato Ok 30, 30 Blu Vai, checco Vai, 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 vai Sol Vai, vai, vai Asci, esci Ma dai Ve lo fate, ve lo fate Ve lo fate Tranquillamente ve lo fate Ok Hai visto? Però sei morto, bastardo Si, si impara Dai, dai Buono, buono Pezzo di sterco Altra gente Sopra, sopra Non gliela faccio Altro culmine Si Ha battuto uno Ammazzati tutti Altro culmine Comunque Probabilmente lo rifaceva Quattro team No dai, qui Ok Trappola No, no, eh Che rompe Che rompe Mi hanno fatto fatto addosso Lì Stai fermi? Ah no, ho fatto, ho fatto, ho fatto Ok Ok Tieni queste Ma è stato stupendo Ma è stato stupendo No, no Guarda, se non mi tiravo fuori La capoccia di merda Perché vi volevo aiutare un botto Cioè, ho proprio rischiato Per aiutarvi, raga Però Ognuno ha un fulmine Eh, però sì Effettivamente vorrei vedere Dopo il replay, ragazzi Di dove è cascato sto giro Se ti servono munizioni Dimmi, eh Sono a posto 4-4-4 Di munizioni Bro, scusa ma Magari che cosa stavi Leggermente, leggermente Leggermente più tranquillo Eh no Perché ero praticamente restato Capito? Io avevo fatto Cioè, io avevo tolto Michael, un euro Assimile Wolfer Due euro Cosa sono questi fulmi? Cosa succederà? Bro, non lo so proprio Sono sincero con te Non ne ho idea Comunque c'è il famo Massa che era devastante, ragazzi No, ma è Tom Io quando sento il rumore del Tom Sono già paura Quello sì, è rotto Fa male proprio Quello fa male 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 Sì, sì Che poi Da vicino è precisissimo Sì, ti ricordi Due colpi avevo già fatto Un endshot E quell'altro Sessando a 2-34 di blu Non so se da 2-40 Ho sentito colpi Non... Sì 195 in realtà Ciao chi? 150 Orca Andiamo dai Sì, sì Mortacci tua Li mortacci tua Li mortacci tua Li mortacci tua Li mortacci tua L'ho presa in faccia L'ho presa in faccia L'ho presa in faccia Tacci tua Tacci tua Mi ha rotto la faccia Con la Thompson Raga Devo trovarti Di rossilla Più presto Eh, io Guarda di qualche Vending machine Ti ho vede qua dentro Guarda Uno che hanno combinato Io vado sotto A prendermi i funghetti Buttali via Ci stanno Uno, sì Mortacci tua Raga Ma ha spaccato la faccia O la Thompson Con un nabbo di merda No, è un nabbo di terrofa I cinquanti riscordi Uno Quattro Ma ha rotto la faccia Raga Bella Ciao Vabbè Sì Intanto Butta via Oh cavolo Che dolore No ma la Thompson Ragazzi È devastante Che cazzo Stiamo a parlare Devastante Perché non mi fa ricorre A volte Fai ieri Quei bug I materiali come stai messo? Bene Sì ma dimmi Più di mille Mattone Ferro Che t'avanza? Posso darti Un po' di ferro E un po' di mattone Dai Posso darti Tutto il ferro E un po' di mattone Tieni Nice 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 No Accordarsi tipo Oh cavolo Ci abbiamo a sinistra Oltre che abbiamo Quelli a 285 Prima mi No bro No 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 Sono tre Separati 240 Qua davanti a noi E a nord ovest A noi Che cazzo Ce lo fa fare? Ok Quello è morto C'ha la slurp Madonna Lassotto c'ha la slurp Z Lassotto Mi facciamo dai Vieni con me Vieni con me Beh mi dispiace Ma per me Questa situazione È troppo collusa Sol Hai trovato oro? Eh si Vaffanculo Dove lo fare per forza Ehm Safe 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 Io ho spaccato La faccia Io ho spaccato La faccia Sol Te lo dico No È D'acciaio Inox Attacca Attacca Dobbiamo fa Battuto uno No Ti ho detto È devastante C'è un'altra cosa Grossa 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 Il shock Grosso 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 Ti ho detto Guarda il FAMAS Ti spacca la faccia Cioè se lo usi bene Il FAMAS Ti rompe No no L'ha visto che Quello che gli ho fatto io A sto strozzo Mamma mia Spacchiato Bro Andiamocene direttamente In safe Poi ci stava C'è ragione C'è ragione Ma Che cosa curiosa Tu resta là Fai un bel Fortinazzo Va bene Ricorda quel power lost Loot Sì power loot Eccolo trovati Dove Devo venire Devo venire No Ok No no Non devi venire Sì Tranquillo bro Tranquillo È morto un culato Ma stai tranquillo Lo vedo Vincco c'è a sud Sotto A sotto di me Un giro col fan Eh venisse Dov'è bro Eh non lo vedo adesso Dai che adesso Sarà pure chiuso Qua dentro Sì Se no vieni qua Non rieschiamo Bro Lo sai che Esatto Il mio secondo nome Il mio secondo nome È pazzerello Lo vedo Bro L'ho spaccato Zio C'è l'ho rotto L'ho rotto L'ho rotto L'ho rotto L'ho C'è Mary J Un euro Grazie mille Porca drota L'ho rotto Questo non ci ha capito Un cazzo Raga Hai tancato Tre persone Tre C'è Parà 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 Pipo Parà 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 No perché Già mi rompono Il cazzo Capito Non ti va Di registrare A che ora è Ragazzi L'ho fatte tutte Sblocca in 15 ore La settima GG ragazzi E testa il pomodoro Qua che mi manca Gioca Ah le gioco le partite Mary J Mary J Un euro Andiamoci a vedere Il replay Va Gioca Io mi ricordo Stavate fightando Però Stavate fightando Io ero morto Andiamo a 6 Stavamo fightando Ah qua dove sei morto tu No Sì sì Te lo posso Guarda te lo posso garantire Sì sì Ti ho detto Vedi Seguro Sì E dove sei Un po' più avanti Che minuto Eh non lo so Momomò GG che il combo è ancora vivo Vediamo un po' eh E ma non so Ah PC ciccio che mi ero 89 Terza persona Abbiamo finito a combattere Quindi Oh voglio il drone è free Penso qua Porca miseria Ecco l'ho sentito Ok Adesso 13 10 13 10 Eh immaginavo Ok Ho sentito per caduta Sì si sentiva Ecco ecco Sì sì Dove dove Mi notaggio 12 e 56 12 e 56 Penso che avrà colpito Un'altra cosa Cioè a cazzo Quello secondo me va a culo Ah io so 13 10 Ancora non è partito Raga 12 e 56 Eh che cazzo ti devo dire 12 e 56 E' partito Ah eccolo Eccolo Ah ma mi sta sempre là Ragazzi Mi sta sempre là eh Guarda ve lo dico eh Io ci sto andando Ma è sempre là E' sempre là E' sempre là Io ricontrollo Ma secondo me è sempre là Questo adesso è cambiato qualcosa Vediamo eh Mi ricordo se il premì Il premio è più veloce Sì lo so Quanto che devo premio è B Ah io c'ho il badge C'ho pure il badge collegato Cazzo è bella da stasera No dai stasera no Deve avere quello americano Cazzo devi sentire Cazzo fa Bello però figo Porca mignotta E' ma Gison Super Germano Un euro Xbox Bella ci bella E' ma Gison Ci ci farei mai un duo con Kronox Ragazzi Checco Bomba C'è una live forte Checco Bomba Bella 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 A me non me la dà La skin di Checco Checco che cazzo di skin hai? Sembra un superman Ragazzi Sto guardando a play Ragazzi Guardate che skin Ha Checco Ma penso che sia quella del De che? No sembrava tipo Ah c'ha la pizza Ah no E' il pomodoro senza E' il pomodoro senza la faccia Senza la faccia del pomodoro No ragazzi Il posto è quello E' quello Non vi preoccupate Anche perché Io per sicurezza Quindi qualcosa succede No vai vai Ma è quello E' quello Stesso posto Poteva andare Da un'altra parte Invece è quello Quindi E' veloce Non so come si fa Ecco ci vuole l'uguale Ma l'uguale non riesci a prendere Perché devi fare shift uguale tu Allora ragazzi Nel mentre Io saluto tutti i moderatori Moderatrici Grazie mille A tutti quelli che hanno guardato La live fino ora Sono 3 ore e 47 di live Ragazzi Siamo davvero rimasti in tanti Fino all'ultimo Grazie mille a tutti gli abbonati A chi ha donato A chi ha lasciato like A chi ha semplicemente visto la live Ci facciamo un pezzettino di Osanna E vi lascio la buonanotte Let's go Grazie al trio Medusa Let's go Let's go Non parte Ragazzi Si è verificato un errore Non mi fa partire Osanna Eccola Eccola Tra l'altro abbiamo vinto pure un botto Pure stasera Sattu 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 Osanna Sattu Sattu Cristo signor Bravi sponsor Che spammate le emoticon giuste Signore Sono pieni di te I cieli e la terra Oh signore Sono pieni di te Osanna Sì che c'è che c'è la facciamo tutta Eccola Osanna Osanna Eccola Sattu Eccola Sattu Osanna e osanna e osanna Cristo Signor Eh signorotti grazie mille a tutti per la bellissima serata Vi voglio un sacco di bene a tutti quanti Tranne che a Checco bomba abbiamo fatto un botto di sfide Ne abbiamo fatte tutte così fra 15 ore escono le altre Le sblocchiamo tutte e ci danno la leggendaria Perché dobbiamo sbloccarne sette giusto? Ehi signori Allora forse non so se siamo capiti qua come funziona la situazione Abbiamo giocato bene abbiamo giocato bene Poi Checco l'ha vista l'ultimo cazzo Col fama asserigato Trum Trum HS HS Boom HS HS A quello l'ultimo cazzo l'ho massacrato Massacrato E niente signorotti vi voglio bene ci vediamo domani Sponsor ricordatevi che voi avete un video anteprima da andare a vedere Ma quante ne sappiamo su fortnite E niente Buonanotte a tutti Grazie ancora Notte 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 Può che non è normale sto posto Cioè perché ha preso di mira a sto posto Ma poi vedremo Non è che non è normale Poi lo vediamo Non è normale Non è normale però Buonanotte a tutti